Hey, ciao! State per guardare la sesta puntata della seconda stagione del Breaking Italy Podcast e l'ospite che vedrete condividere il palco con me è il primo parlamentare in carica che abbiamo mai avuto allo show. Anzi, la prima parlamentare in carica. Lei, Giuditta Pini, Partito Democratico, peraltro mia coetanea, che è una delle ragioni, lo ammetto, per cui l'ho invitata. Volevo chiedere a qualcuno che avesse dei punti in comune con me cosa significa esattamente essere nel PD e cosa il PD stia facendo. perché in questo momento non è chiarissimo a nessuno. Con Giuditta Pini abbiamo parlato di moltissime cose e non ve le anticipo tutte ma abbiamo spaziato dalla sua storia personale, cioè diventare parlamentare a 28 anni a come poi funzionano i rapporti tra i parlamentari, che sono innanzitutto individui, sono persone quindi stretti da legami non diversissimi da quelli che si formano in altre situazioni per poi arrivare alle sue battaglie all'interno del PD e all'elezione del Presidente della Repubblica. Ci aspetta un viaggione, insomma, sono due ore te belle piene. Prima di lasciarvi alla lunga chiacchierata con Giuditta, che vi assicuro sarà utile per capire alcuni aspetti della vita in Parlamento e vi lascerà senz'altro qualcosa e questo a prescindere da quale possa poi essere il vostro rapporto con la sua area politica o in particolare con il suo partito, ringraziamento allo sponsor che ha finanziato la puntata che è Gimme5, un'app di un'azienda piuttosto nota nel mondo del risparmio gestito in Italia che si chiama Acomea. Nel concreto, quello che fa Gimme5 è permettere di entrare nel modo più facile possibile nell'universo del risparmio e degli investimenti e lo fa appunto con un'app molto intuitiva pensata per chi non abbia mai neanche solo immaginato di provare ad investire i propri risparmi. L'app ti invoglia infatti a mettere da parte delle somme di denaro che vengono poi investite per te in dei fondi gestiti dagli esperti della compagnia con l'obiettivo ovviamente di fare in modo che quel denaro abbia dei buoni rendimenti perché se si trattasse soltanto di metterli da parte uno dei soldi se li mette sotto al materasso, li lascia fermi in banca li sposta su Paypal, non gli serve l'app. Però invece gli serve. Perché? Perché investire parte dei propri risparmi per salvaguardarne il valore nel tempo è una buona abitudine che in Italia è troppo poco praticata e quindi l'app non solo aiuta a muovere i primi passi in questo mondo la cui comprensione poi apre un sacco di porte ma fa attivamente divulgazione per neofiti quindi hanno un blog, vi arrivano le notifiche potete leggere i piccoli articoli con informazioni inerenti il mondo degli investimenti che pubblicano insomma è un sistema che vi prende per mano per cui poi un po' imparate le cose per inerzia senza inizialmente doverci mettere troppo impegno. Quindi al solito vi consiglio, se ancora non l'aveste fatto di scaricare l'app, trovate il link in descrizione e usare il codice ITALI5 per ottenere 5 euro di bonus d'ingresso con cui potete provare l'app anche per mesi volendo senza metterci un euro così capite come funziona, vedete se vi piace. Bene, era tutto vi lascio la mia lunga chiacchierata con Giulietta Pini che ringrazio ancora moltissimo per aver condiviso il palco con me e avermi regalato così tante informazioni. Prendetevi da bere, mettetevi comodi sarà interessante. Dal Teatro Franco Parenti di Milano per Breaking Italy Podcast ecco a voi Alessandro Masala Buonasera Grazie per essere qui Guardate quanto sia, 550 persone che non sapevano come passare San Valentino immagino e dico cara cosa potremmo fare? Potremmo andare fuori a cena oppure andiamo a sentire uno youtuber che parla con una parlamentare del PD e ovviamente funziona insomma ero molto preoccupato invece grazie per avermi fatto questa oh grazie grazie non so quanti di voi abbiamo comprato a scatola chiusa quanti conoscano l'ospite adesso inizieremo a conoscerla meglio io non ho voce peraltro non so se sarà un problema due ore me le gestisco così l'ospite che stiamo per avere è la prima parlamentare in carica che ho mai avuto a un podcast adesso non è che non so quanti ne avrò nel senso non è che adesso tiriamo fuori il Parlamento di continuo è la prima del PD così non mi dite che ah c'hai il PD perché lo so che nei commenti immediatamente c'hai il PD però sono in realtà molto contento di condividere il palco con Giuditta Pini che è alla mia età e questa è un po' una mia fissa lo sapete è alla mia età però è qualcuno che è giovane ma è una vecchia della politica è in Parlamento già da dieci anni e quindi credo che potrebbe portarci un punto di vista interessante su quello che succede nel Parlamento su cosa significa essere una giovane in Parlamento abbiamo votato un Presidente della Repubblica cioè anno quindi sarà interessante fare delle domande su quello insomma ho un sacco di cose da chiederle vi chiedo un applauso per Giuditta Pini com'era come introduzione? ci stava? sono stato offensivo da subito? no no ottimo ottimo ok grazie mille allora tu sai che qui abbiamo una tradizione perché è un'ossessione ne parlo continuamente quindi facciamo finta che tu non lo sappia abbiamo questo che cos'è? questo è no possiamo fare i nomi non possiamo va bene dai alla salute allora la cosa che mi dicevamo a me dicono sempre che devo smetterla di andare dritto quando inizio cioè mettere l'ospite a suo agio terribile vabbè ma più di dare da bere cioè uno cosa deve fare no infatti esatto quindi che ne so parliamo parliamo con parliamo con qualcosa di parlateci di Bibianu eh c'è una cosa così Bibiano è un paese in provincia di Reggio Emilia famoso per il nome Bibiano è della tua domina in effetti adesso l'ho fatto adesso il collegamento no è Reggio Emilia ah vabbè dici non so niente mostro immediatamente un'ignoranza no sì dobbiamo parlare veramente di Bibiano no diciamo tipo no non so nel senso perché cosa c'è da dire è la prima scemezza che mi viene in mente no no non c'è niente da dire in realtà è un caso giornalistico che è stato è un caso vero di cronaca perché c'è stata questa questa indagine sui servizi sociali che poi è stato preso durante la campagna elettorale un po' perché soprattutto è stato cavalcato allora c'era il governo Conte 1 mi ricordate come dimenticarlo e c'era i due vicepresidenti del consiglio che erano Matteo Salvini e Luigi Di Maio che visto che c'era la campagna elettorale del 2019 europee e comunali hanno deciso che il loro cavallo di battaglia sarebbe stato attaccare il PD dicendo che che quelli del PD che cosa è che non fanno quelli del PD per esempio noi possiamo rubiamo i bambini questo lo disse Di Maio noi rubavamo i bambini per fargli l'elettroshock e toglierli ai genitori tra l'altro quando uscì questa cosa che è un piccolo aneddoto noi eravamo io ero insieme altri cinque deputati a Lampedusa perché c'era caro la racchette con quei della Sea-Watch in mezzo al mare da giorni e noi eravamo andati giù per cercare di sbloccare la situazione ma tu sei una di quelle che erano salite a bo io non sono salita perché siamo divisi in due quelli più diciamo capogruppo del Rio che è di Reggio Emilia infatti uscì questa notizia che eravamo insieme e Orfini che era il presidente del partito andarono sulla nave quelli diciamo un po' meno con meno visibilità ma che erano lì noi sono stati in capitaneria di Porto perché in realtà quello che dovevamo fare era convincere cercare di capire per quale motivo stavano bloccando quella nave perché non c'era un motivo che fosse uno e quindi mentre eravamo lì a prendere il caffè priva che loro partissero è arrivata questa notizia e tutti abbiamo pensato che fosse una roba ma è arrivata questa notizia nel senso che tu l'hai visto nel telefono sì sì eravamo lì con Berrio con Orfini c'era Faraone credo non mi ricordo più che ci fosse insomma è uscita fuori questa roba ha iniziato tutti questo tweet e c'era Bibiano è un paesino molto piccolo quindi è stata una roba e poi l'accusa perché avevano arrestato il sindaco che poi è stato prosciolto da tutte le accuse ma all'epoca l'avevano arrestato con l'accusa di aver fatto questo tramato questo complotto e per cui lui insieme ai servizi sociali toglieva i bambini alle famiglie per darli a questa insomma a queste persone tra cui delle coppie lesbiche per cui una roba terribile che poi insomma in realtà sono stati drammi che sono successi ed è diventata tutta una parodia di tutto infatti la cosa che a me interessa molto soprattutto nel parlare con te è cercare di capire il lato umano di queste vicende perché io ovviamente quando l'ho vissuta l'ho anche raccontata poi Breaking Italy eccetera tutta la questione di Bibiano che era evidentemente pilotata perché stavamo parlando proprio di livelli altissimi con Di Maio che parlava di elettroshock ma cioè quello succede vabbè Di Maio va davanti a chi per lui il politico va di fronte a una videocamera dice questa cosa ma poi vi vedete dopo cioè nel senso cosa è successo dopo eh sì noi ci vediamo e allora in quel momento lì i rapporti erano pessimi con Di Maio erano pessimi ovviamente con Salvini e non è solo con loro perché non erano tutti contenti neanche nel PD che noi fossimo andati a Lampedusa erano andati un po' ad Imperio tra l'altro insomma vabbè insomma c'eravamo arrivati in modo un po' rocambolesco i rapporti sono umani per cui cioè c'è chi riesce a gestirli un pochino meglio e chi riesce a gestirli un pochino peggio io li gestisco meglio diciamo nel senso che io sopporto molto so perfettamente che la politica e il dibattito politico specialmente quando sei un parlamentare specialmente quando sei al governo ci sta che ci siano dei momenti io non penso che gli attacchi debbano mai essere presi sul personale perché se no non fai politica se no devi fare un altro lavoro cioè non è troppo adatto se quelli che si offendono è meglio fare un altro lavoro perché la vivono proprio male almeno che non siano attacchi personali cioè se tu vieni a dire che io la mia comunità rapisce i bambini per parire l'elettroshock e anche quando diciamo per attaccare politicamente ma è anche quando si scopre che è tutto falso che non è vero tu hai distrutto la vita di quelle persone perché quelle persone hanno avuto la vita distrutta perché tu pensi in un paesino piccolo se vai su tutti i telegiornali del mondo e ti dicono che tu tutta Italia prima diceva che te eh sì magari non l'hai proprio rubato cioè magari non sei stato proprio tu però sapevi beh insomma io credo che ognuno di noi è responsabile delle cose che dice e ci sta anche che uno possa dire delle cose anche in buona fede o in mala fede vabbè in buona fede non c'era niente in buona fede si può anche sempre chiedere no però io voglio dire facciamo finta però poi uno può anche chiedere scusa se dice una cazzata perché ti ha chiesto scusa no ovviamente nessuno ha chiesto scusa però in quel momento sembrava credibile quindi ok diciamolo ma questo vale da tutte le parti cioè da tutte le parti ecco quindi ma quello che io cerco di capire è come io non ho riferimenti perché non sono mai stato in Parlamento spero che non dove cioè nel senso non è il lavoro che voglio fare è un posto non è se no bello bello nel senso però eh poi cioè ma poi te l'immagini cioè che era youtuber se ci sono io ci sei è la fine una roba ah beh non c'è di peggio vabbè sì però vabbè il youtuber è sotto potresti invece dare un contributo contributo ok grazie ma cioè io me lo immagino come una scuola cioè ci sono le classi ci sono tante persone così me lo sto immaginando perché quello se uno mi dice tu fai l'elettrocio che bambini si viene alle mani cioè molto velocemente quindi anche questo discorso del del fair play no però non mi offende io ti ammazzo eh vabbè diciamo ovviamente comprensibilmente ok però eh insomma se no non funziona la democratica cioè a un certo punto non si possono essere sempre delle risse secondo me è che bisognerebbe avere un minimo il senso del limite cioè ma voglio dire non c'erano argomenti per attaccare il PD? certo che c'erano ce ne sono decine ok cioè mi devi dire quello cioè per te io sono per te quindi capisco la cosa io personalmente faccio un po' fatica con alcuni faccio un po' fatica ok perché per me è una roba perché poi alla fine questa cosa che noi facciamo è una cosa temporanea cioè io secondo me il mio è il lavoro più bello del mondo sono molto fortunata a farlo so anche che è una cosa temporanea allora uno quando torna a casa poi dopo deve deve anche guardarsi allo specchio quando fa della roba allora io non è che tutte le cose che uno fa uno ne va sempre fiero no proprio insultare la gente ci deve io sono a favore se uno deve essere insultato sono della scuola funaria che se uno è uno stronzo gli va detto stronzo perché se no se gli dici cretinetto stupidino non capisce però diciamo ho detto troppe parolacce questo non si può no 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 qui guarda era una citazione comunque non era no no ma qui cifra stilistica qua lo puoi dire quanto vuoi ok scusate anche indicando il pubblico no no non vedo niente quindi io sono perfetta non ce l'ho con nessuno di voi in particolare e credo meno che non veda qualcuno e quindi oh grazie grazie sono dell'idea che uno deve poi dopo tornare a casa e essere in grado di guardarsi allo specchio e secondo me alcune cose non si possono perdonare quindi a volte ci sono anche le risse a volte ci sono le risse a volte ci sono quelli che non ti davano la mano che il giorno dopo cambi governo e sono i due migliori amici bisogna avere un pochino di pazienza ok quindi è poi una cosa di clan nel senso io sto con i miei quelli sono dell'altra cosa cioè non si non si socializza si dipende molto dai partiti e dalle persone più tempo stai lì dentro più riesci a essere un pochino diciamo a gestire meglio la cosa i grillini per esempio nel 2013 all'inizio della legislatura avevano proprio l'ordine di non parlare con nessuno perché erano puri erano puri non dovevano parlare con i depili non dovevano parlare con nessuno abitavano tutti insieme cosa vuol dire abitavano si affittavano le case tipo in sei erano c'è una cosa che non vorrei mai di abitare con sei parlamentari ok comunque però anche alcuni lo fanno ma poi pensa alle discussioni in casa ma poi l'incubo di continuo comunque quindi sì altri no per esempio per esempio dico un cliché ma è vero quelli di Forza Italia sono molto simpatici cioè sono molto amiconi ecco ok dipende molto dalle situazioni ovviamente è così è verità è verità hanno avuto un buon maestro diciamo è il professionista e poi ovviamente diciamo dipende molto dalle situazioni dipende molto anche dalla situazione politica cioè io quando sono tornata da quella roba di Lampedusa quando sono tornata la nave era ancora lì io non so mi ricordo questo viaggio in cui io pianto praticamente da sola per la tensione e per la rabbia che avevo perché la situazione era insostenibile e non è finita lì probabilmente anche adesso mentre parliamo c'è una nave ferma con della gente sopra solo che non fa più notizie quindi nessuno gliene frega più niente ma è una roba vergognosa ed è vergognosa che noi non ci indigniamo più per farlo ecco lì io faccio un po' fatica se no è la politica così tu non ti puoi offendere troppo perché se no non vivi più poi adesso sono tutti lo faccio sempre questo quando nel 2011 forse avevo occupato l'università contro la riforma Gelmini hai voluto l'applauso è bello l'applauso ma adesso lei è nel governo Draghi è un applauso per la riforma Gelmini quindi io a un certo punto sono a pranzo la famosa bouvet è un ristorante tipo mensa in cui tu ti siedi poi si siedono tutti sono dei tavoli in cui ti puoi sedere a un certo punto mi sei seduta di fronte a Gelmini ok e tu hai fatto esatto e io ho detto oddio ho di fronte a Gelmini cioè è quella perché mi ha convinto a farmi a testa la debilità non lei fisicamente ovviamente però siamo alla sua riforma e quindi io gli ho detto lei mi ha guardato come se fosse una deficiente cioè giustamente vabbè aspetta cosa gli hai detto io gli ho detto guarda ti volevo ringraziare perché comunque io ho iniziato a fare un'altra grazie a tua riforma e lei giustamente l'ha guardato come per dire ma questa chi ha cioè perché fa così e però io l'ho capito anche avrei avuto la sua reazione quindi bene ma l'ha capito cioè io non lo so cioè perché io sto rimettendo in crisi tutte le volte che qualcuno mi ha detto io in staff del giornalista grazie a te perché io l'ho sempre presa come un complimento ma magari non è così no ma era un complimento alla fine era un complimento un complimento no era un complimento perché alla fine nel bene o nel male hai scatenato una passione una voglia di attivismo nel suo caso io diciamo non ero proprio a favore della sua riforma però d'altronde ok spiegami una cosa tu quando tu quanti anni avevi quando sei entrata ne avevo 28 e non avevi la minima idea di come funzionava dentro no come raccontami i primi giorni perché non riesco a immaginarlo raccontami questo trauma allora uno dopo l'altro dottore ritiriamo fuori tutti ritiriamo fuori tutti ma io non berrò altro mirto perché ho avuto indicazioni precise da casa no ma cioè nel senso comunque che mi conoscono da casa ingogliate quando vedete che è il momento no allora io sono stata eletta nel 2012 con le primarie dei parlamentari e quindi tutta la mia campagna elettorale quindi io sono ero segretaria provinciale dei giovani democratici di Modena i giovani democratici sono l'organizzazione giovanile del partito democratico e noi avevamo insomma io ero la segretaria eravamo un bel gruppo molto molto bello e noi avevamo gestito una palestra con più di cento sfollati in un comune della bassa modenese dopo il terremoto e questa cosa ci aveva molto uniti insieme ai giovani musulmani e sono un'organizzazione giovanile dei musulmani no sono un'organizzazione giovanile di di credere di musulmani come se fosse una attività cattolica una cosa che spero di aver detto bene insomma diciamo per capire insomma è un'organizzazione giovanile che è ispirazione religiosa che fa attivismo e socialità e quindi noi avevamo un gruppo dei gd che era anche nei giovani musulmani e avevamo fatto insomma insieme anche perché molte delle persone che avevano perso la casa erano immigrati o sì immigrati sostanzialmente quasi tutti dal maghreb e molti di fede islamica quindi era stato anche importante avere qualcuno che mediasse anche a livello culturale e religioso e quindi insomma dopo questa esperienza che è stata veramente credo una delle cose più forti dure e belle brutte estreme non so come dire della mia vita ci sono state le famose primarie Bersani-Renzi chi hai votato tu? io ho votato Bersani ok e l'applauso mentre io ho votato Renzi ahia non hai votato Civati? è più forte facciamo un applausometro quale era era solo una prova è una prova lui ha votato Puppato adesso non lo può dire però e no tabaci c'era anche c'era un sacco di gente io ho votato tabaci esatto marxista marxista vero e no quindi diciamo dopo quelle primarie lì ci fu tutta la cosa facciamo le primarie facciamo le primarie e quindi tra il 23 di dicembre e il 30 di dicembre sono state organizzate queste primarie quindi in mezzo alle vacanze di Natale e noi ci siamo candidati sostanzialmente contro il PD nel senso che il Partito Democratico a Modena ha sempre governato non il PD ma prima il PC poi il PDS poi il DS poi il PD quindi è un partito molto strutturato e molto forte molto radicato e anche i giovani democratici erano abbastanza radicati ma ovviamente il PD aveva i suoi candidati che voleva mandare in Parlamento giustamente non pensava a quegli scappati di casa che eravamo noi capitanati da me e giustamente diciamo neanche io adesso che sono anziana penso penserei la stessa cosa ma farei un errore perché non non si sono resi conto di quello che sta succedendo e quindi alla fine in una settimana noi abbiamo fatto delle primarie abbiamo speso in tutto 200 euro quindi poco e io sono stata candidata io perché ero la segretaria provinciale ma non perché io avessi particolari meriti perché ero la segretaria quindi siamo presi insieme questa cosa e abbiamo vinto con 7100 preferenze che erano un botto prima c'era Richetti poi la guerra grandi nomi ecco e poi c'eravamo noi questa cosa non era prevista diciamo ok né da me né tantomeno dal PD e quindi insomma come posso dire ma questi voti da dove sono arrivati? cerco di capire da tutti perché si potevano fare due voti un uomo e una donna e noi abbiamo preso voti in tutti in tutta la provincia era un'elezione provinciale perché il Porcellum aveva i collegi regionali e le primarie erano provinciali e noi abbiamo preso voti dappertutto con qualunque coppia cioè con i renziani con i bersaniani con perché c'erano i giovani cioè il partito non aveva colto quello che sta succedendo anche con Renzi che c'era il proprio elettorato che stava chiedendo un cambio noi avevamo c'eravamo candidati noi non volevamo candidarci io noi avevamo fatto un documento che chiedeva a uno qualsiasi dei candidati del PD di dire tre cose matrimonio egualitario abolizione delle finte partite IVA e dello stage gratuito e riforma della legge sulla cittadinanza è andata bene insomma è andata alla grande ci hanno detto infatti ci hanno detto di no e e quindi invece ci siamo candidati e gli diceva beh se non lo fate voi ci candidavano e loro hanno detto uh oh si candidano infatti abbiamo vinto e loro non quindi è stato un po' così noi siamo alla fine la campagna elettorale è stata non so se la ricordate è stata molta neve cartelloni con bersani grigio non so se ve lo ricordate si 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 il clima non erano i migliori perché nel frattempo c'erano i 5 stelle che diciamo teorizzavano che noi fossimo uno dei problemi se non il maggiore problema del paese insieme al PDL e quindi clima pessimo vinciamo le elezioni ma c'è il famoso non vittoria per cui noi appena siamo arrivati abbiamo vinto le primarie sono arrivata lì e nessuno ci ha detto niente quindi io sono arrivata lì c'è tutto il giorno 1 ecco come dice il signore ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi ok io sono andata anche nei miei miei vicipini infatti scusate che è l'età no siamo arrivati lì giorno 1 vai lì ti fai la fototessera dai le impronte digitali sembra brutto detto così però perché servono per votare fai tutti i documenti che devi fare e niente e poi dopo aspetti che qualcuno ti dica cosa devi fare ma ti metti i tigini polli ti dice vabbè no perché ci hanno fatto un paio di riunioni ma non di adesso non so come dire nel nostro paese è un po' strano lo so che è un po' strano come si diventa parlamentare nel senso che in altri paesi ci sono dei percorsi un pochino più strutturati e i partiti sono un pochino più strutturati quindi alla fine ci sta anche che si sia quello più giovane che va in Parlamento ma prima comunque un pochino insomma gli hai spiegato come funziona si è creato uno staff cioè anche solo sa come funzionano il processo legislativo gli emendamenti noi in quel momento lì non è stato fatto niente di tutto questo e noi siamo arrivati per cui non c'era una maggioranza che consentiva di fare il governo c'era l'elezione del Presidente della Repubblica perché Napolitano era a scadenza e si era dimesso il Papa questo non c'entra però era per dire c'era niente era morto pure il capo della polizia poveretto cioè c'era stato proprio un vuoto di potere totale e in questo caos noi ci siamo trovati a eleggere il Presidente della Repubblica che è stata la volta che è stato rieletto Giorgio Napolitano quindi il 101 di Prodi quindi Rodotà 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 quindi i primi giorni sono stati un pochino traumatici ok e tu cosa cioè tu seguivi tipo il tuo capigruppo cosa devo fare adesso perché io immagino me stesso è capito esatto io entro in un negozio che non conosco cioè io mi perdo subito non so cosa devo fare quindi pensare a te che entri non so ti perdi nel transatlantico non lo so come funziona sì no perché diciamo nessuno cioè pian pianino poi dopo c'erano alcuni di buon cuore alcuni parlamentari che erano un pochino lì da un pochino più di tempo che ci hanno dato i consigli ci hanno dato una mano c'erano quelli che facevano già parte di una corrente quindi questo aiutava molto perché le correnti sono sostanzialmente dei gruppi di parlamentari che si frequentano cioè che hanno un obiettivo comune dentro il partito e quindi se c'è uno nuovo gli dai una mano ti consiglio questo questo qua è legislativo e quelli che erano un pochino spesati ma non solo io perché quell'anno lì con le primarie sono stati eletti tantissimi giovani democratici eravamo un pochino un pochino in balia degli eventi quindi io ero un pochino persa diciamo facevo la stagista all'istituto storico della resistenza quindi non avevo un euro per cui anche banalmente diciamo stare a Roma era diventato un pochino problematico poi per fortuna il mio amoroso che è poi diventato mio marito è di Roma per cui diciamo io ho avuto questa fortuna lo dico sempre cioè una delle mie fortune è stata avere una persona che amavo che faceva politica perché lui all'epoca era molto più alto in grado di me anche in EGD e che mi aiutava la sera a elaborare diciamo le informazioni che avevo e a calmarmi e a trovare un posto sicuro ok perché tu tornavi e dicevi non ho capito niente di quello che è successo oggi questo è questo ho parlato con questo questo e questo e lui mi diceva vediamo sentiamo mi è ben dirizzato qui pian pianino dopo uno insomma si impara a stare in piedi si impara anche a fare il parlamentare però insomma all'inizio ci vuole un po' di soprattutto se all'inizio c'è il caos come in quel caso però sì insomma come dice il vecchio proverbio cinese ti auguro di vivere in tempi interessanti ok e tu che sono stati in tempi interessanti sì 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 sono stata fortunata sotto questo punto di vista meglio prima diciamo no sempre si stava meglio prima no 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 sicuramente io no ecco magari magari voi sì io no la cosa pazzesca è che io mi ricordo il momento dell'elezione di non di Rodotà ma di Napolitana mentre tu eri lì io ero in una casa che avevo preso in affitto e facevo avevo fatto tipo una live forse l'unica nella quale ho commentato senza capire quello che stesse succedendo in quel momento però cioè mi sembra secoli fa cioè lo percepisco come una roba ma sì perché la politica italiana è molto se si divora molto e purtroppo è sintoma della fragilità del sistema politico italiano del sistema diciamo l'Italia ha tre grandi pesi no il potere legislativo il Parlamento e il governo diciamo mettiamoli insieme anche se sono diversi perché il governo è esecutivo il potere giudiziario quindi la magistratura e il Presidente della Repubblica sono tre macro poteri che si compensano quindi quando uno è più debole vedi emergere quell'altro quando quell'altro è più debole vedi in questo momento sono deboli quello giudiziario e quello politico si vede dalla crisi che c'è all'interno del CSM la crisi della politica è sotto gli occhi di tutti da parecchi anni e quindi il Presidente della Repubblica ha un ruolo sempre più importante sempre più pesante perché deve reggere queste cose qua e l'elezione del Presidente della Repubblica che è una partita completamente diversa rispetto alla politica normale cioè tu hai gli stessi giocatori ma è come se tu avessi giocatori che giocano a calcio che per una settimana giocano a nuoto sincronizzato proprio un altro sport ok e quindi le dinamiche sono diversi i poteri che ci sono in campo sono diversi perché si sceglie una persona che ha un potere molto grande che sta di sette anni e quindi ci sono poteri economici poteri di ogni tipo che sono interessati a fare pressione e in quel momento sì è vero che uno vale uno perché ogni voto di ogni singolo grande elettore cosiddetto vale uno quindi ci sono tante dinamiche che partono che se non hai nessuno che te le spiega non succede niente semplicemente però uno non capisci cosa succede due rischi di finirci mezzo stritolato senza capire che cosa è successo quando noi eravamo rieletto napolitano il parlamento era in un momento diciamo i partiti erano esplosi completamente differentemente da oggi invece da oggi oggi è stato un po' diverso la cosa sono sempre i partiti sono sempre molto deboli ma questa volta è stata una cosa è paradossalmente stato il parlamento che ha eletto il Presidente della Repubblica e i partiti che gli sono andati dietro invece in quel caso si era bloccato tutto e si è chiesto di ritornare a Napolitano che è ritornato però diciamo giustamente non l'aveva presa benissimo perché è stata una cosa molto grave non so io mi ricordo quei giorni lì quando venne mia mamma mia mamma per lavoro era dovuto venire a Roma e noi eravamo scortati dalla polizia fuori dalla dalla camera perché eravamo quelli del PD quindi c'era la gente fuori che è rodotta è un po' casa pound è un po' ex gente ex iscritti che bruciavano le tessere che poi sono di plastica quindi non si bruciavano quindi stavano lì nelle orle è un po' adesso sono di carta però se lo volete fare non fatelo però adesso sono di carta ed era una roba terribile cioè c'era una una pesantezza e una paura perché avevi paura tu? sì un pochino paura mi ero molto inquietata perché avevo visto anche su Facebook che all'epoca era praticamente l'unico social che usavo io e persone che conoscevo da una vita letteralmente da una vita che mi mandavano messaggi o scrivevano cose che ho scritto dovrebbero entrare e spararvi tutti e ammazzarvi tutti l'unica cosa è una bomba ora uno magari lo scrivono però vedere proprio una persona che ti conosce che te lo dice ma tipo un tuo amico un tuo ex compagno di classe esattamente ti scriveva però dovrebbero ammazzarti e tu dovrebbero ammazzarti tutti tutti ok ok c'era effettivamente questo clima molto in quel momento sì adesso non è così io non l'ho percepito in questi giorni sicuramente non è così per cui in quel momento sì e c'era una tensione anche molto cavalcata dai gruppi di estrema destra che come sempre si inseriscono e anche all'epoca c'era Beppe Grillo che su questo aveva fatto non so se vi ricordate io adesso scendo a Roma facciamo una marcia poi si fermò però era tutto molto e io personalmente non parlo per tutti io come esperienza mia e personale ero rimasta molto ero molto spaesata perché non capivo benissimo cosa stesse succedendo e quindi sì è stato un pochino duro quel momento lì ok vorrei farti delle domande sul PD però ho ancora una curiosità che riguarda te come ti cambia se ti cambia ma immagino di sì la vita diventare effettivamente parlamentare soprattutto del PD soprattutto del PD perché alla fine il PD cioè non è un brand ottimo in un certo senso non è una roba che dici wow no Apple cioè nel senso non so però è quel Samsung che alla fine lo comprono tutti ah sì è così no sto scherzando allora per me ripeto è un onore ed è veramente un onore cioè per me è una cosa bellissima e paradossalmente tutte queste cose cattive che io dico sul PD sono il motivo per cui voglio tanto vedere al PD perché è un partito in cui con tutti i difetti che ha che sono milioni di milioni no ma ne parliamo ne parliamo avremo tempo due o tre giorni tanto San Valentino siete qua quindi siamo a stare insieme tanto ormai si sono già pentiti e sì mi dispiace tanto però è molto insomma è un partito che ha una grande comunità di persone di iscritti e che è capace al suo interno pur nelle diversità grandi che ci sono di discutere anche a capigliarsi in maniera abbastanza violenta politicamente parlando quindi anche con toni molto accesi ma di discutere e di cercare o almeno tende sempre di cercare alla fine una mediazione che arrivi a risolvere la questione per cui che in quel momento diciamo si sta discutendo per cui alla fine com'è è bello perché è un onore perché è una cosa che succede a pochissime persone nella vita e quindi devi essere contento di farlo è bello perché ti senti parte di una comunità magari un pezzettino no però ti senti parte di una comunità sei parte di una comunità ed è bello perché ti senti un pochino di cambiare o di almeno provare a cambiare le cose e quindi secondo me è la cosa più bella del mondo a livello personale bisogna un pochino diciamo ripeto non ho fatto tutto il percorso canonico per cui non ho fatto 18 mila anni di gavetta ecco io sono entrata molto tardi nella giovanile e poco dopo che sono entrata sono stata eletta parlamentare quindi capisco anche che per un pezzo del partito questa cosa sia stata vista come è arrivato l'alieno lo capisco perché probabilmente non lo farei anch'io adesso che sono da un po' di tempo dentro però sì a livello personale anche con gli amici così all'inizio è un po' strano però poi dopo vedono che io cerco più o meno di rimanere normale per quanto però lo sanno sono una persona un po' speciale loro mi vogliono bene lo stesso e quindi io li voglio bene e va tutto bene ok vi accettate diciamo ci accettiamo reciprocamente io lo so che loro non mi votano però mi capisco come non mi votano no ma è una roba terribile cioè come non ti votano sono obbligati moralmente ma io gli dico sempre io lo so che non mi votano ma non me lo dite cioè perché me lo devi dire ah perché ti dicono non ti ho votato sì guarda Pini non ci ho fatto ok è terribile ma non dirmelo tanto io non lo saprò mai cioè perché me lo devi dire ok io ho avuto una sì ma mi ha detto solo una delle mie più care amiche che il giorno nel 2018 quando c'è stata le cose no che insomma abbiamo perso male le lezioni e tutto e lei va seguito veramente è mia testimonia di nozze cioè la sera in cui iniziano lo spoglio io cioè distrutta capito sul divano col plaid ok da Pieroni da 66 ok così lei tipo alle 3 di notte non ha niente di maniera da dire vabbè Pini poi io non ti ho votato cioè oggettivo è invotabile c'è niente perché me lo devi dire ma pensa quanto stava ma tu me lo devi dire ma per la messa eh no tu giustamente dici pensa lei quanto stava eh ti vuol dire però alle 3 ma io ci fero di più cioè nel senso dimmelo tra tre giù cioè dimmelo allora se non vengo letto non dirmelo mai cioè muori con questo segreto ok io vivrò serenamente tu così così però ognuno cioè se tu mi vuoi bene tieni i segreti per non farmi stare male se invece vengo eletta dimmelo quando sono se state eletta ma sei non te neanche votato me lo dici dopo vabbè ma non proprio mentre quello lì sono giorni abbastanza ma tu le avevi mandato una foto di quei te sul plaid no lei ha votato un altro che un altro partito che è andato malissimo malissimo e quindi quanto che partito era? no no non lo posso dire non lo dico però era più a sinistra o più a destra? era ovviamente più a sinistra ma io che ne so era più a sinistra hai ragione scusami era più a sinistra però è andato molto male non era potere al popolo comunque era meno a sinistra di potere al popolo perché come vedete sono stati quattro anni e ancora io lo faccio notare quindi come vedete hai fatto bene sembra che sto lavorando molto su me stessa e secondo me sta funzionando abbastanza bene rimane tra noi non ti preoccupare ma c'è nessuno no ma poi so che le prime file sono nude mi hanno spiegato sono tutti pagati per ridere e applaudire ma tu mi raggancio a questa tua amica adesso inizierò a volteggiare come un mostro su questa cosa ma tu le hai chiesto perché perché lei mi ha detto Pini eravate invotabili cioè avete candidato della gente perché io non ero nel mio collega non ero a Modena sono stata candidata in Romagna e lei non si sentiva non si sarebbe sentita rappresentati da quelli che poi sono stati che erano stati candidati a Modena e io sinceramente e adesso la prendo in giro ancora adesso però l'ho capita insomma è fatto così insomma ognuno vota come crede è giusto che sia così perché ogni volta che si parla di PD c'è sempre il discorso del chiedersi se il PD se le leadership del PD capiscano il PD cioè quando una cosa che io ho notato molto spesso una cosa che io ho notato molto spesso quando mi capita di parlare con gente eccetera è che il PD te lo dico così viene spesso votato perché sennò chi devo votare cioè non c'è mai un e vai vado a votare il PD è sempre un e sono pagati non è vero che dico le cose cattive comunque mi sto riascoltando no però c'è sempre un po' un discorso di il PD che non abbraccia nessuna delle battaglie che la base vorrebbe che venissero combattute lo dico perché tu combatti molte battaglie poi ne parliamo all'interno del PD che poi non vengono sostanzialmente minimamente calcolate però di fatto se non voto lì vincono gli altri e quindi io mi tiro il naso mi chiudo gli occhi mi non lo so mi metto un cappuccio si si sono delicati e voto lì questa cosa è compresa beh c'è non ha senso no cioè allora in parte mi ha fatto un droplet dunque allora in parte è uno dei motivi di forza del PD riuscire a tenere proprio all'interno appunto battaglie diverse con l'ambizione di portarla a casa spesso e volentieri mi sono sentita dire le stesse cose dalla parte più di cent più adesso ovviamente non so come voti non dirmelo mai perché come vedi prendo un po' male però no a parte gli scherzi anche da parti per esempio un pochino più conservatrici su alcune cose dicono io non sono d'accordo su questo e questo e questo sempre interni al PD intendi sì elettori PD che dicono per esempio io ho le unioni civili non sono d'accordo il testamento biologico non sono d'accordo lo Jussoli non è il momento però alla fine se no quegli altri e così questo comunque è un tema della politica ed è un tema che riguarda noi riguarda anche un po' come è fatta la politica italiana per cui ci sono dei partiti molto particolari o di destra a destra o partiti molto un po' unicum come il Movimento 5 Stelle quindi molto se sono in Italia una cosa così ecco non saprei dire se sono di destra o di sinistra io ho una mia idea non lo dirò però non lo dirai sono di sinistra chi dice che è di destra e di sinistra è tendenzialmente di destra però questa è la mia teoria però no no e quindi è una delle forze che ha cioè il fatto di essere alla fine quello diciamo che ti rassicura ma perché sai che comunque è un partito moderato di centro-sinistra quindi che fa certo io mi auspico che prima o poi ci possa essere come è successo anche con gli altri pensiamo al partito democratico americano anche loro hanno noi non siamo sono due cose diverse completamente diverse però al loro interno loro hanno delle anime molto diverse se uno pensa a Occo a Sanders piuttosto che invece anche lo stesso Biden ma non solo insomma anche altri candidati che c'erano molto più moderati però alla fine loro hanno la capacità di discutere e quello che vince si prende un pochino di di parte anche di quelli che hanno perso e quindi si prende alcune battaglie in Italia si ha un pochino questa cosa per cui c'è un pochino paura sempre di dire oddio poi dopo spaventi moderati che poi io i moderati li ho conosciuti e sono rimasta terrorizzata non so se loro io li posso spaventare ma i moderati in questo paese non è che diciamo sono un'entità astratta che in realtà poi dopo le persone quando vedi voti questi moderati o non esistono oppure è più un'idea astratta che uno ha ecco quindi sicuramente c'è questa cosa queste persone con le quali tu avrai parlato esisteranno che ti hanno detto io no esistono però non sono spaventati dalle battaglie che faccio io ok perché le persone non si spaventano diciamo se uno diciamo mettiamola così credo che la dirigenza ne sia consapevole a volte secondo me soprattutto ultimamente anzi non solo ultimamente c'è un distacco generazionale molto grande ok e credo che la generazione mia e anche tua che è un pochino quella non diciamo in che fascia diciamo di età siamo però quella non più giovani però non ancora di mezza età e quelli più giovani in realtà proprio perché noi siamo nati e cresciuti con un continuo di crisi di mancanze di certezze abbiamo bisogno secondo me a volte e questa cosa a volte manca nella comprensione della leadership di coraggio e di battaglie un pochino più radicali questo sì dall'altra parte hai un pezzo del paese molto importante sia numericamente che come elettorato che non vuole quelle battaglie radicali ha paura di quelle battaglie radicali non le condivide secondo me il risultato non dovrebbe essere ok quindi mi metto e cerco di non fare l'una nell'altra ma dovrebbe essere cercare di convincere una parte della bontà dell'altra non so se il problema del partito democratico è anche che e chiudo su questo noi siamo stati eletti nel 2018 siamo stati eletti quattro segretari fa cioè nel frattempo c'è stato Renzi poi c'è stato Martina poi c'è stato Zingaretti e adesso c'è Letta noi siamo sempre noi i numeri della direzione sono quelli di Zingaretti e chi c'è che governa deve fare i conti con questo perché oggettivamente siamo uno dei pochi partiti e mi dispiace dirlo perché vuol dire che c'è qualcosa che non va che ha dei meccanismi democratici per cui i pesi interni contano se io voglio fare passare una cosa e quindi è anche comprensibile a volte spezzo una lancia a favore che magari uno non dica certe cose perché sa che comunque non riuscirà a portarla a casa con la maggioranza che non è quella che ha scelto lui non è la sua non è quella che avrebbe eletto lui ecco ma è vera questa cosa nel senso questa è una cosa che mi dicevo anche io cioè il PD è l'unico partito scalabile dall'interno cioè dove effettivamente ci può essere un movimento minimo però io ultimamente inizio a chiedermi se questo sia vero perché nel senso tu hai citato quattro segretari tutti questi quattro segretari Martina no tre segretari sono stati definiti e descritti come il momento del cambiamento del partito Renzi sicuramente più di tutti perché Renzi è stato molto particolare del partito Zingaretti Zingaretti era il momento in cui basta lenzismo cioè torniamo alle origini alla sinistra e mai con i 5 stelle e mai con i 5 stelle il PD però non è molto cambiato da quel momento lì in poi io non non ho percepito questo cambiamento magari c'è stato tu me lo puoi raccontare però non l'ho visto Letta ancora Letta quando è tornato dalla Francia era adesso finalmente c'era il libro ho imparato e io ho detto dai eeeh 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 quanto è vera questa cosa che questi meccanismi democratici interni poi portano a dei cambiamenti allora è vero bisogna bisogna usarli allora ovviamente c'è una differenza tra quello che viene dipinto dai giornali in tv e sui social e quello che internamente si discute cioè quando diciamo Zingaretti è stato portato come se noi avessimo avuto eeeh non so Fidel Castro che tornava e con le truppe e maggio salvava il paese e chi diciamo internamente c'era un po' di perplessità su questa cosa ma proprio perché lui non è per fortuna diciamo non è Fidel Castro ma anche perché la sua piattaforma era sostenuta da aria dem di Franceschini da un pezzo di quindi era evidente che non ci sarebbe stata tutta questo rinnovamento quindi in parte è un po' questo in parte è che noi non facciamo un congresso da allora nel frattempo sono cambiati due governi ed è cambiata completamente la 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 politica italiana una c'è stata la pandemia e noi abbiamo fatto il governo con i 5 stelle adesso siamo al governo con i 5 stelle la Lega e Forza Italia quindi è cambiato il mondo nel frattempo c'è stato Trump poi non c'è stato più Trump è cambiato il mondo purtroppo il mondo per fortuna va avanti molto velocemente e bisogna starci dietro ora sono state cambiate le regole quindi secondo me il mezzo delle primarie del partito democratico per il congresso è un mezzo intelligente da un certo punto di vista perché porta il dibattito fuori e cerca di far portare un pezzo di persone che appunto magari non ci voterebbero però magari c'è quel candidato che gli piace che viene e partecipa alla decisione ed è l'unico partito che lo fa veramente non veramente con queste dimensioni aprendola tutti ecco adesso è stato cambiato lo statuto ed è stato cambiato in maniera molto più restrittiva per cui sarà molto più difficile anche fare le primarie aperte rispetto a come era prima perché invece che tre candidati ce ne saranno potranno essere solo due questa sembra una cavolata voi pensate al terzo e di solito erano civati erano quelli un pochino outsider che però scompaginavano un po' la cosa portavano non votava nessuno no non è vero perché alla fine si era preso un po' di voti e soprattutto nel dibattito politico lui è inciso tantissimo cioè le sue posizioni sono state poi dopo portate avanti quindi per rispondere alla tua domanda ti direi che un pochino per come è fatto il partito che tende a autoconservarsi un pochino ci sono gli strumenti bisogna usarli ogni tanto purtroppo ovviamente con la pandemia e tutto è stato anche molto complicato è impossibile in questo momento usarli se adesso si potrebbero anche fare dopodichè in questo momento ha detto alla maggioranza direzione se adesso si mettesse a dire facciamo un congresso probabilmente verrebbe preso un po' per matto e quindi giustamente non lo fa però diciamo ci sono bisogna però saperlo usare bisogna avere un pochino di coraggio sapendo che alle battaglie si perdono anche però questo non ci può spaventare ok ma allora ti faccio un'altra domanda allora così cerco di capire un po' le dinamiche di un partito che a volte io non capisco ma allora i moderati nel PD che cosa vogliono? cioè quali sono le battaglie che vorrebbero che il PD portasse avanti? ma diciamo bisognerebbe chiederlo ai moderati non va bene no non è vero no lo USOLI va bene nel senso che lo USOLI è stato no no lo USOLI va bene ed è stato firmato da tutti la richiesta è stata da tutti il problema è che lo USOLI non lo vuole nessun altro questo è il problema per cui i numeri non ci sono mai stati ora io sono anche per l'idea di fare le battaglie anche se sai che le perdi però attenzione a non perderle troppo le battaglie perché se il rischio è che se tu porti una legge come la riforma della cittadinanza in discussione e poi dopo non hai voti per farla approvare quella roba lì non la discuti più per dieci anni quindi capisco anche la prudenza di chi dice ok c'è questa battaglia vediamo se abbiamo i numeri se no teniamolo un po' più in basso secondo me ci sono anche battaglie come quella della cittadinanza che vanno comunque combattute politicamente cioè senza magari arrivare se vedi che non hai numeri è inutile portare una roba a schiantarsi però puoi comunque portarla avanti adesso il problema per esempio sulla cittadinanza è che semplicemente non se ne parla più è sparita quindi quella su quella sono d'accordo probabilmente adesso diciamo stiamo discutendo di c'è una legge sul suicidio assistito su quello per esempio ci sono delle posizioni un pochino diverse anche se alla fine anche lì non è che c'è qualcuno che non lo vuole alla fine lo vogliono tutti con delle sfumature leggermente diverse non saprei dirti diciamo qual è la battaglia della vita a loro perché insomma in questo momento sono un pochino credo che la posizione del PD sia la loro sia la posizione dei moderati perché sostanzialmente è sempre quella che ha avuto più o meno la maggioranza quindi è una posizione di partito centro-sinistra che ha dei saldi principi morali e che su alcune cose è disposta a mediare su altre no il problema credo sia quando tu cerchi cioè tu medi un pochino diciamo su troppe cose allora lì si può creare un pochino di confusione quello sì non saprei dirti però diciamo bisognerebbe chiedere a qualcuno di loro perché non è che sono coce non è che se io dico che appunto gli usoli dicono no non dicono no perché non sono al contrario sono a favore ma se no non staremmo nello stesso partito cioè se io ci avessi proprio di fianco delle persone che proprio non la pensano io o cambierei io partito o loro nel senso che a un certo punto una domanda se la fa abbiamo avuto tante scissioni anche per questo perché a un certo punto uno può dire io non mi ritrovo e me ne vado sulla Libia per esempio lì quello lì sì che è una cosa che a me proprio non mi fa dormire la notte perché quella è una cosa che tu guidi cioè non guidi tu fai parte di una pattuglia alla fine all'interno del PD che è contro la linea del PD di fatto sì da quando si è capito che cosa sta succedendo in Libia noi abbiamo fatto un documento che è stato approvato dall'unanimità dell'assemblea del PD l'assemblea del PD è il luogo supremo del partito democratico è composta da mille persone sono tutti eletti con le primarie nella lista dei candidati che appoggiano ed è il luogo in cui decisioni sono vincolanti sia per la direzione che per la segreteria a prescindere anche se cambia la segreteria quello dopo deve prendersi quello che ha deciso l'assemblea finché non viene cambiata l'assemblea è stato approvato all'unanimità questo documento questo ordine del giorno che avevo portato io che era stato firmato da un sacco di gente ed è stato ignorato questo da tutti è stato ignorato sia dalla segreteria di Zingaretti che da quella di Letta perché ci sono degli interessi molto grandi in gioco in Libia perché Libia è un paese molto complesso che ha una fortissima instabilità che è in mano ha delle milizie che è diviso da una guerra civile e in cui ci sono interessi anche economici insomma molto importanti strategici dopodiché ecco io su questo questo sì ecco non credo che nessuno ti direbbe che è a favore dei campi in Libia perché non credo che ci sia qualcuno che sia a favore dei campi in Libia ok lo direbbe ad alta voce ma nel mio partito sono sicura che non c'è nessuno a favore dei campi in Libia la differenza è che secondo me a un certo punto tu devi cioè se tu sai che ci sono dei campi di concentramento non è una cosa che puoi aspettare di fare cioè nel momento in cui tu sai che ci sono in questo momento mentre stiamo parlando delle persone che sono torturate con i soldi che tu gli stai dando tu non puoi una volta che lo sai il problema è finché non lo sai ma nel momento in cui tu lo sai noi abbiamo i video ci mandano le foto non sappiamo tutti quello che succede ecco quella è una cosa che a me mi dà molto da fare cioè per me fare finta che non stia succedendo quella cosa lì mi pregiudica la credibilità di tutto il partito su ogni cosa cioè se tu dici ok a questa cosa come faccio a credere che tu combatterai per me in un altro momento se tu sai che ci sono dei campi di concentramento allora io rimango e so che la maggioranza del partito democratico tutta l'assemblea nazionale i circoli i scritti tantissimi elettori la pensano come me credo che più facciamo sentire la nostra voce e più questa diciamo posizione possa prendere più peso anche rispetto ad altre situazioni di natura economica e politica magari un moderato direbbe non è il caso di tirare in mezzo in questo momento così delicato questa questione probabilmente anzi sicuramente ha delle sue ottime ragioni per me per la cosa che dicevo prima di tornare a casa la sera è una cosa molto difficile è impossibile per me conciliarle le due cose cioè se no non ne vale la pena però io credo che il partito democratico non sia a favore di questa roba non può essere a favore di questa roba e dovrebbe fare in modo di spiegare perché è successo quello che è successo capire cos'è successo chiedere scusa per quello che è successo e porre subito fine fare qualunque cosa in nostro potere per porre fine a questa cosa la pena è smettere di capire che siamo noi ma letta cioè tu questa cosa nel senso voglio capire una ma letta cioè è il preside torniamo alla scuola cioè nel senso tu non puoi pronto scusa Enrico cioè come funziona tu questa cosa gliela puoi dire cioè no ma abbiamo detto ci sono state delle direzioni noi l'abbiamo fatta e ci è stato spiegato che quest'anno non si poteva fare ma l'anno prossimo sicuramente per il terzo anno dietro fila ecco ok diciamo su questa cosa qua proprio per me mi spiace tanto io non ce la faccio cioè per me questa cosa qua non è accettabile non esiste non mi basta come giustificazione c'è stata una discussione c'è stata una direzione la direzione ha votato per rifinanziare la missione della cosiddetta guardia pastiera e quindi per continuare con questa linea cercavo solo di capire quanto in connessione tu sei con il leadership del partito cioè quanto vicini perché ad esempio un'altra questione che emerge spesso è il fatto che il PD dovrebbe essere uno dei partiti più vicini alle questioni di genere diciamo e poi c'è una certa sottorrappresentazione nelle leadership delle figure femminili una risposta che spesso si dà a questa cosa corregimi se sbaglio io poi dico solo sciocchezze una cosa che spesso si dice è che il partito è molto vecchio strutturato e per questo ci sono molti uomini e poche donne cioè nuovamente questo mi porta a pensare che tra quelle leadership che io mi immagino questi uomini senza volto con la Jack cioè me li immagino così e poi la base o persone come te che sono entrate nel partito da meno tempo non ci sia un dialogo cioè o sia così lontano e così intermediato che non sai quello lì dipende da chi c'è in quel momento alla leadership nel senso che ognuno di noi sostiene un candidato piuttosto che un altro e quindi a seconda di chi è quello eletto il candidato che vince poi dopo uno ha rapporti più o meno vicini con qualcuno alcuni sono più propensi ad avere rapporti diretti cioè Renzi su questo era incredibile anche se tu non l'avevi votato non gli frega niente cioè lui conosceva tutti chiedeva cioè era molto diretto su queste cose qua altri un pochino meno Letta è stato chiamato diciamo in un momento di estrema difficoltà è arrivato dopo per quanto è stato vicesegretario del partito insomma una discreta esperienza in questo momento ha una segreteria molto grande e molto variegata per cui sente un pochino le componenti le sente insomma le varie sensibilità come le vogliamo chiamare alla fine insomma se uno ci vuole parlare ci riesce non è che sono per un ragno quindi sono raggiungibili sì 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 certo poi ovviamente c'è quello con cui è un rapporto un pochino più magari lo conosci da tempo è quell'altro che conosci un po' meno però insomma sono tranquillamente raggiungibili ok ho capito sì sì con i parlamentari parliamo di dell'elezione del presidente dai facciamo così allora domandone innanzitutto ti aspettavi questa roba cosa? Mattarella? sì sì? da subito? sì non sapevo se sarebbe poi alla fine stato eletto ma sì era una delle due opzioni sei votato Mattarella ogni voto segreto io a un certo punto ho iniziato a votare Mattarella a un certo punto ok prima che diciamo di fuori tuo school ho iniziato a votare Mattarella ok è questa volontà di votare Mattarella cioè io ho avuto l'impressione dall'esterno che sia arrivata come dicevi tu l'hai detto anche tu prima molto dai parlamentari meno dai partiti che poi hanno seguito i parlamentari eh sì perché se no si trovavano eletto Mattarella senza aver detto senza averlo detto quindi a un certo punto hanno dovuto dire no grande lui volevamo lui abbiamo detto una donna ma intendevamo Mattarella una donna una donna purtroppo avevano detto una donna ma non avevano detto il cognome quindi non si poteva e quindi non si poteva esatto c'era Casellati hai votato Casellati? io no noi non abbiamo proprio ritirato la scheda con la Casellati non ci hanno fatto ritirare la scheda ok per paura questi votano la Casellati tutti in massa milioni di voti ok questa cosa che si sarebbe votato Mattarella cioè tra i parlamentari nel tuo gruppo piccolo sicuramente avete detto dai ragazzi votiamo Mattarella cioè quello è ovvio cioè era così proprio con questa voce bassa con la voce un po' laica un po' articolato ragionamente però così ma invece il fatto che anche gli altri degli altri correnti magari o degli altri partiti l'avrebbero fatto tu avevi contezza di questa cosa? allora quando si elege il Presidente della Repubblica ci sono i partiti esistono però sono molto mischiati di solito i partiti diciamo le varie componenti si contano come si contano? con i nomi diciamo i partiti possono dare due indicazioni cioè tre indicazioni di voto il partito può dirti un nome e cognome che tu devi votare Mario Rossi può dirti vota scheda bianca oppure può dirti non ritirare la scheda quindi assieniti perché la stensione diciamo vuol dire che tu non ritiri la scheda se tu dai scheda bianca ufficialmente è scheda bianca ma stai dicendo in realtà che uno può anche votare qualcuno nel senso che se no io ti direi non ritirare la scheda se volessi essere sicuro che tu non voti se io ti do la scheda bianca ovviamente vuol dire che io come partito non ho un candidato che tu tendenzialmente non dovresti votare nessuno al limite poi dopo nel segreto dell'urna io ti vedo stanno in no come si diceva quindi vai bene quindi quando c'è stata questa cosa all'inizio tutti i partiti avevano dato scheda bianca tranne gli ex grillini diciamo dell'alternativa c'è e fratelli no e altri dei gruppi piccoli ci dovevano essere 945 schede bianche ce ne sono state 647 672 io sono discalculica per cui tanto i numeri ne giro però più o meno insomma quelli voleva dire che stava iniziando il primo giorno ci sono stati 17 voti per Mattarella ed è stata una componente del misto che ha votato Mattarella di solito cosa succede che in situazione normale i partiti si contano i gruppi dentro i partiti si contano iniziano a votare dei nomi tipo al di là di quelli stupidi all'amadeus quelle cazzate lì però uno inizia a votare cappato allora in 20 votano cappato quell'altro vota draghi quell'altro vota ciccio formaggio e tutti si contano e dicono ok noi siamo votato questo anche tra i partiti diciamo quindi io so che io dico tu quanti voti hai? contiamoci io ne ho 30 poi dopo escono 20 voti e ne escono 40 ok questa cosa qua serve a tutti i partiti per capire quali sono le forze in gioco perché quando si legge il Presidente della Repubblica i partiti contano ma fino a un certo punto nel senso che lì è veramente il voto è veramente segreto si vota con una matita dentro una scheda la matita è importante perché non è una matita copiativa è una matita e quindi diciamo si può cancellare si può scrivere si può e e quindi c'è questa dinamica con Mattarella è successo questo dall'inizio si capiva che diciamo la soluzione di solito non si lega mai il futuro del governo all'elezione Presidente della Repubblica perché sono due cose staccate qui dall'inizio si è iniziata a legare questa cosa non era possibile tenere insieme la logica della coalizione del centro-destra o del centro-sinistra e la coalizione del governo perché sono due coalizioni diverse quindi se tu se la Lega se Salvini voleva tenere il centro-destra voleva dire perdere la coalizione del governo perché doveva tenere dentro la Meloni e la Meloni ha giustamente interessi diversi rispetto a quelli nostri o di lei o di 5 stelle viceversa se teneva il conto degli nostri interessi o del nostro parere perdeva la Meloni che non ha interesse a votare con noi in Presidente della Repubblica per cui dall'inizio si capiva che questa cosa delle oltre che nessuno delle due avere la maggioranza che cosa non da poco se tu dici che devi tenere insieme la maggioranza di governo dovevi trovare fuori un nome che garantisse il voto di tutte da l'EU a la Lega da azione più Europa fino ai 5 stelle quindi devi trovare una roba che andasse bene per tutti e si sapeva che uno dei nomi se non l'unico nome era Mattarella perché Draghi non era un'opzione in quel momento perché non era un'opzione perché se mettevi Draghi cadeva il governo e quindi non è che facciamo un altro la Lega o noi non è che possiamo fare tutti i governi con la Lega che ci paghi o no nel senso che uno non abbiamo detto di sì al governo con la Lega perché c'era Draghi e perché si ha chiesto Mattarella non è perché che bello votare con la Lega non è bello votare con la Lega non è bello però Mattarella potrebbe dirvi non è una cosa bella però vabbè adesso non diciamo che Draghi è l'unico nome perché è successo in altri momenti che ci sono state alleanze strane quindi sì sì no sì sicuramente sì però questo tipo di questo governo durante la pandemia con Draghi è stato fatto in quel modo no no figurate alleanze alla grande con chiunque però diciamo si fanno le alleanze cioè in tutti i paesi in cui c'è una democrazia parlamentare si fanno le alleanze da noi che viene vista come un inciuccio si fanno le alleanze ovunque il problema è spiegare alle persone che si fanno le alleanze e spiegare qual è il tuo partito il tuo programma diciamo questa è la differenza comunque quindi si sapeva che sarebbe stato così e è successo che i partiti si sono incartati soprattutto a causa di Salvini che ha iniziato a sparare col no ma così ma cariche dello Stato e la seconda carica dello Stato e il capo dei feriti segreti cioè la roba incredibile ma va terribile cioè una cosa gravissima voi non sapevate niente cioè sempre via telefono veniva tutto questo Salvini loro facevano questi tavoli e poi dopo Salvini usciva e con la mascherina e tu stai lì e vedevi tramite telefono tramite la tv noi ovviamente abbiamo fatto delle riunioni di gruppo con Letta che ci spiegava la nostra linea era noi non diciamo nessun nome uno perché non abbiamo i voti quindi possiamo dirlo ma poi farà fine di quegli altri e due perché aspettiamo che questi qua smettano di fare le alleanze cioè che smettano di fare la cosa di centrodestra che o ci propongano qualcosa che va bene anche a noi oppure affinché non si calmano non facciamo niente quindi man mano che questa cosa si incartava più crescevano i voti per Mattarella perché all'inizio era una forma di contarsi e poi dopo è diventata una forma di omaggio tra virgolette cioè della serie vedete che mentre voi fate questa roba una delle personalità è Mattarella e noi facciamo vedere che c'è non so come poterlo dire mentre c'era questa cosa abbastanza bruttina da vedere fuori era anche secondo molti un segno di rispetto far vedere che c'era un affetto del Parlamento nei confronti di Mattarella e poi dopo questa cosa è cresciuta è cresciuta tant'è vero che quando c'è stata la Casellati quindi tutto il centro-sinistra non ha votato e anche il centro non ha votato sono usciti 46 voti per Mattarella non ne doveva uscire neanche uno a quel punto è successo che la votazione dopo sono arrivate a 300 quindi ne mancavano solo 100 e alla votazione dopo è la destra che non ha partecipato e quindi a quel punto diciamo si era capito che si stava creando questo fronte molto più largo e che l'unica soluzione a quel punto possibile visto che questi qua avevano già bruciato tutto ciò che potevano bruciare bruciato nel senso tirato fuori dei nomi che poi non potevano eleggere si è capito che diciamo l'unica soluzione sarebbe stata quella ed è stato eletto Mattarella quindi è stato molto organico come procedimento è stata una cosa molto organica molto diciamo da vari gruppi sicuramente dal Partito Democratico sicuramente dal Movimento 5 Stelle ma anche da destra anche dal centro è stato molto eterogenea come cosa ti chiedo questo anche se cioè tu hai quella maglietta con Mattarella sopra non so se la seguite sui social cioè il Santino con Mattarella quindi è un po' strano fratti questa domanda ma quanto ci sta che abbiamo un presidente che farà 14 anni di mandato perché lo trovo una cosa un attimo è una cosa non è una cosa normale con tutto il rispetto con tutto il rispetto assolutamente non è una cosa normale lui stesso diciamo l'ha sempre detto e lui stesso ha detto lo faccio e ha chiesto appunto faccio perché me l'ha chiesto il Parlamento ma se no giustamente anche lui anche perché sono costituzionalista e tutto è una forzatura abbastanza estrema vuol dire che il sistema politico è in una crisi enorme e non è in grado di tirare fuori un nome questo è evidente cioè la cosa positiva è che in questo caos si è riuscite a trovare una persona che comunque garantisce garantisce il rispetto alla Costituzione delle istituzioni che è la cosa più importante anche dopo le prossime elezioni e a prescindere da chi ci sarà c'è qualcuno che noi sappiamo a prescindere da chi votiamo o da chi non votiamo che tutelerà l'interesse supremo della Repubblica però vuol dire anche che i partiti in questo momento non sono in grado di gestire né creare leadership che possono sostituire il Presidente della Repubblica che teoricamente dopo sette anni va cambiato che è una anche per proprio per il rispetto che gli è dovuto non è diciamo il massimo chiedergli di tornare ecco però sì è un brutto segnale da un punto di vista la Germania ha poi fatto lo stesso ieri mi ha fatto molto ridere che c'è stato all'inizio la Germania ha fatto una serie di articoli ma questi italiani e poi l'hanno fatto uguale ieri perché il problema della legittimazione della crisi dei partiti è una cosa molto molto profonda che c'è e va oltre l'Italia è un problema va oltre l'Italia noi sicuramente in Italia siamo campioni non dico mondiali però siamo messi abbastanza bene come campionato e se per ipotesi non si cioè Mattarella aveva proprio detto no io no e non ci fosse cioè la legge fosse diversa e quindi prevedesse che dopo la terza chiama ma anche la quarta la quinta la sesta la legge non cambiasse quindi rimanesse la necessità di questo ampio consenso parlamentare si sarebbe dovuti arrivare a un certo punto o pensi che sia proprio impossibile in questo momento i nomi si trovano la cosa l'elezione del Presidente della Repubblica è fatta in un modo molto particolare che è una specie di conclave laico ed è fatta in modo tale che quando inizia si ferma tutto non si possono più fare leggi non si possono più fare leggi c'è il governo ovviamente in carica per le emergenze ma non si fa niente i consigli regionali si fermano non si fa niente quindi c'è una data di inizio non c'è una data di fine quindi puoi andare avanti potenzialmente mesi chi è il problema e la soluzione per cui a un certo punto la più lunga è stata Leone dopo 23 votazioni ma a un certo punto si trova una soluzione se si fosse il quorum dei due terzi sarebbe ancora più complesso il quorum è dei 505 quindi della metà e comunque è abbastanza rappresentativo quindi si sarebbe trovata sicuramente una soluzione anche se non ci fosse stato Mattarella probabilmente ci sarebbe voluto un bel po' più di tempo non sarebbe stato più auspicabile però sai nel senso che poi uno deve anche saperlo reggere questo tempo in questa situazione e voleva dire mettere a repentaglio insomma anche la stabilità dello Stato e delle istituzioni perché non è che regge tutto cioè si sentivano le adesso lo vedi con le discussioni che hanno internamente i partiti cioè l'elezione del Presidente della Repubblica è una roba molto importante molto grossa che ha degli strascichi e lo vedi adesso appunto con le coalizioni che esplodono i partiti che hanno dei problemi interni perché soprattutto in un momento come questo con la situazione che ci abbiamo quindi tirarla troppo per le lunghe era rischioso perché bisogna anche avere le spalle per tirarla per le lunghe cioè avrebbe anche voluto dire potuto voler dire far saltare il giorno dopo il governo far saltare tutto e quindi ripartire che non è la fine del mondo se va a votare però voleva dire tre mesi di elezioni cioè di caos prima ci sarebbero state le consultazioni perché nessun Presidente della Repubblica arriva e scioglie le camere così cioè non è la stessa cosa e so sarebbe stata abbastanza pesante non credo che vista la situazione attuale ci sarebbero stati gli anticorpi per gestirla al meglio ok e la cattiveria sul fatto cattiveria sul fatto che i parlamentari avessero anche un interesse personale sicuramente c'è c'è quello è molto presente ma diciamo questo è sicuramente vero cioè non è che siamo cioè tutti tranne ovviamente tranne te presenti però è che siamo tutti giolitti cioè o calandra o che ne so cioè esiste questa cosa d'altronde è uno dei paradossi di fare i parlamentari di fare politica è quello cioè ti dicono dal primo momento che sei lì solo per la poltrona che sei lì solo perché non te ne frega niente e a un certo punto dici sì ma era da un po' ok e quindi cosa mi dici se io lo faccio che non voglio andare a votare quindi c'è anche questo con chi sta avvenendo questa da solo ok nella mia immaginazione non riuscivo no 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 nel senso quello sicuramente c'è stato ed esiste tra l'altro c'è stato il taglio dei parlamentari quindi c'è la certezza matematica che ci saranno un terzo meno di parlamentari tra un anno e quindi anche quello è stato sicuramente ma allora essendo un fattore così lampante e così chiaro e la palissiano che ci sarebbe stato era folle non tenerne conto cioè in tutte queste cose per cui c'era questa cosa il Parlamento ad un certo punto si immolava perché se no il Corriere della Sera diceva che i parlamentari stavano lì per la poltrona bisogna anche un attimo avere i principi di realtà quando si fanno queste cose allora esistono esiste la politica esiste anche i principi di realtà le due cose sicuramente esistono diciamo è inutile negare far finta che fossero tutti lì perché la sera prima di andare a letto leggiamo la Costituzione cioè trami presenti però c'era anche questa cosa c'era e l'instabilità la paura di non avere più governo di andare a votare ovviamente ha giocato un ruolo per ampliare ancora di più il fronte ok e se fosse stato per te né non mattarella tu chi avresti scelto come Presidente della Repubblica? tanto a me non lo puoi più bruciare tra sette anni il mondo è diverso no no ma io non invidiavo e non ho neanche le capacità né per fortuna l'onere di fare un nome di questo tipo credo che abbia fatto bene Letta a dire dal inizio di cercare un nome con un profilo di un certo tipo che cercasse di andare bene a tutti ma un nome sinceramente veramente io dopo visto che proprio una delle prime cose che mi è successo è stata Rodotaro cioè io proprio da lì hai detto no va bene allora saranno circolate comunque delle voci tipo forse vogliono proporre le voci circolavano però quello è quello che Kunda richiama l'ora del cialtrone che è il momento in cui a un certo punto uno va in tv e dice adesso fanno sicuramente questo sicuramente questo magari se l'ha inventato capito ok e quali erano questi nomi qualcuno lo sai no sono usciti cioè c'è stato Frattini c'è stato Casini ah Casini è stato Casini è un nome ok senti una musica e Casini è un nome sento musica tu l'avresti votato un Casini allora perché ricordiamo allora io ricordo che dici ragazzi eccola quando io inizio così io ricordo che quando Casini era stato indicato dal PD cioè è entrato nel PD sostanzialmente si è stato candidato col PD lui aveva un suo partito ma era nella qualità del PD c'era stato un grande casino sul fatto che brutto ok c'era stato che tristezza che tristezza che tristezza vabbè ce l'ha stato molto rumore attorno al fatto che Casini fosse considerato troppo di centro anche per il PD e tu lo avevi difeso cioè tu avevi detto dai c'è un titolo del fatto quotidiano che dice questa la difesa l'ho trovata l'altro giorno ok mi è uscito fuori con Google PD difende Casini ma io avevo detto semplicemente ci sta io avevo detto se c'è il partito che ha deciso sta cosa qua è inutile che adesso non facciamo le discussioni cioè se è stata decisa sta cosa qua d'altronde era in coalizione cosa dovevo fare cioè cosa bisognava fare ok c'era la coalizione però a te non puoi mettere lui noi a Modena abbiamo avuto la Lorenzin candidata e a Bologna hanno avuto Casini e quel momento lì è stato un momento uno dei motivi per cui non mi ha votato ok è stato un momento molto difficile è anche vero che è la dichiarazione di quello che il giorno dopo sapendo di essere candidato in un posto tranquillo dice però che schifo quell'altro che è candidato cioè è una roba che non sopporto o quelle cose lì le dici in direzione ti alzi prendi la parola e dici questa roba qua non esiste poi magari perdi però almeno lo decidi farlo il giorno dopo quando sei tranquillo o perché non ti hanno candidato o perché ti hanno candidato e sei tranquillo non fa bene a nessuno perché alla fine non serve a niente perché la decisione ormai è stata presa e fa male al partito perché la gente non vota neanche il partito quindi a un certo punto ogni tanto devi le cose si possono dire ovviamente ci sono anche i momenti per dirle ok quindi a te non piace molto l'idea che le correnti si scontrino pubblicamente cioè si proprio no io mi piace molto io sono a favore dello scontro però ci sono tempi luoghi e soprattutto ci deve essere un pochino di politica dietro cioè se tu mi dici io non voglio Casini perché Casini rappresenta questo perché lui è contrario a questo e questo e questo io sono a favore a questo e questo e questo ok lo capisco però non è che me lo dici sul giornale vieni in direzione e me lo dici ne discutiamo e votiamo se no se te mi dici no perché Casini sta sulle palle ok però non è politica non è un argomento della politica però queste critiche arrivano principalmente dalla base da chi guardava certamente perché poveretti loro dovevano andare a fare dopo campagna elettorale i nostri compagni e militanti con il volantino di Casini che a Bologna era una persona che era sempre stata candidata contro il centrosinistra quindi all'inizio ovviamente c'era molto molto difficoltà compito di chi dirige il partito anche chi ha i ruoli dirigenziali non nazionali ma anche provinciali e se si prendono le decisioni di cercare di spiegarle ovviamente io capisco i militanti e capisco anche gli elettori che non hanno votato non è che non li capisco penso però che se hai un ruolo dirigenziale ti devi assumere le responsabilità delle decisioni che prendi quindi per questo io ho detto è inutile adesso fare questa cosa bisogna cercarli spiegare dopodiché Casini a Bologna fece una campagna elettorale molto capillare e quando è uscito il suo nome il suo nome era uno di quei nomi che avrebbero potuto unire sicuramente un pezzo di centrosinistra e un pezzo di centrodestra questo sicuramente infatti era uno di quei nomi più temuti tra virgolette nel senso che era un nome che oggettivamente sarebbe potuto uscire e lui si è tirato a un certo punto indietro quando ha visto che non c'era che se avessero continuato sul suo nome non si sarebbe arrivati più a Mattarella quindi anche questo devo dire che gli ha dato atto di essere un politico oggettivamente in quel momento lì lui avrebbe potuto chiedere di spingere continuare se saremmo andati avanti e magari si sarebbe pure riuscito a un certo punto si è fermato quindi io su questo tu l'avresti votato diciamo io avrei fatto quello che mi diceva il partito io avrei votato è che uno si vota io quando finché c'è scheda bianca uno fa le sue robe una volta che per il nome è quello si vota questo si vota questo allora dimmi un nome facciamo un giochino dimmi un nome ma dei giochi terribili non vuoi bere non voglio bere vedi che sono abbastanza sciolta tranquilli allora dimmi il nome di qualcuno di destra che avresti votato al presidente della repubblica non lo so e non dimmi Berlusconi perché è troppo facile comunque non lo so se l'avresti votato dai un po' sì infatti un po' c'è solo per ritornare a quando ero in quarto elementare è stato un momento anche quando ero alle super anche sempre la nostra generazione è stata divastata da questa cosa però ma non lo so veramente non lo saprei dirti dai un complimento a un tuo collega perché se non lo pensi che ti frega ma no non lo saprei dirti ma no veramente non saprei cosa dire nel senso che che ne so cioè qualunque cosa dica non non succederà quindi no ma tanto non può più succedere appunto questa è una cosa buona però non no veramente non saprei dire potremmo stare qua due ore ma io continuerei a dire che non lo saprei dire che non lo sapresti perché non ci ho mai pensato sinceramente quindi ok va bene non ho uno beh potremmo dire la Germini ma non so se è all'età poi è di Brescia quindi so che questa cosa potrebbe stare un po' creare dei sapori ci sono dei parlamentari in generale della lega con quei dei buoni rapporti quelli in commissione affari sociali che sono la mia commissione che sono quelli che frequento un pochino di più quasi tutti ho dei buoni rapporti cordiale vicinato come si può dire è cordiale molto tranquilli cioè nel senso non è che diciamo fuori a cena no però sono tranquilli insomma all'inizio erano un pochino più adesso insomma col tempo sì non so sono tutte persone quasi tutte sono tutte persone stimabili insomma non poi con nessuno esco fuori a cena ecco no ma quello succede immagino con un piccolo gruppo magari sì dipende poi ci sono per esempio ci sono i gruppi tipo dei tifosi quelli vanno sempre fuori a cena insieme i tifosi i milanisti di Montecitorio sono l'ultimo cioè loro vanno sempre fuori insieme se guardano le partite vanno a vedere le trasferte i juventini di Montecitorio il club della Roma di Montecitorio cioè quelli sì e poi tipo l'associazione amicizia Italia Kyrgyzstan cioè quelli lì fanno sempre queste cose ok io non faccio parte di questi gruppi per cui anche un po' meno però si credono anche delle buone amicizie ecco ok non ci sono quindi ma dipende con alcuni sì con altri no però siamo anche tipo mille quindi ci sta che ci siano anche lì come dicevo all'inizio questione di carattere questione di rapporti di politica insomma ok ho capito dipende molto cioè ci sono persone che vanno insieme a vedere la partita poi il giorno dopo però se dobbiamo parlare di un altro tema ok ci si urla addosso vergogna c'è sempre una questione di rispetto della persona e della politica è difficile che se uno ti da del ruba bambini poi dopo uno ci va eh ma si torna sempre lì è sempre lì la mia questione ok quindi quindi non sei mai andata con Di Maio a vedere una partita insomma no no però no ma io non vado in generale a vedere le partite quindi è un mio deficit per cui non non sono mai andata neanche con Di Maio neanche con Di Maio con nessuno ecco ok visto che siete mille in realtà con stupido visto che siete mille ho una curiosità eh i parlamentari sono tanti effettivamente all'interno di ogni partito però sono pochissimi quelli famosi cioè quelli noti che sono principalmente quelli che vanno in televisione sì ora noi abbiamo scoperto noi come pubblico come cittadini perfetto noi come popolo abbiamo scoperto con i 5 stelle che c'era un che c'era Casalino che decideva chi sarebbe andato dove cioè Casalino ti prende e ti diceva tu sei più bravo ti metto qui all'interno del PD e anche di altri partiti magari come funziona come si sceglie chi emerge o si sceglie che emerge o vai tu allora dipende dai partiti quindi non so come funzionano gli altri partiti ecco nel partito democratico dipende anche dalla segreteria nel senso che per esempio appunto la segreteria di Renzi aveva una linea la segreteria di Letta un'altra e ci sono persone più portate ad andare in televisione più amate anche dai conduttori dal pubblico tra virgolette televisivo nel senso che li conoscono ci sono persone che vanno per il loro ruolo quindi magari uno non ex ministro oppure presidente di qualche commissione o è membro della segreteria e ci sono quelle che vengono chiamate perché conoscono i conduttori i conduttori si fidano quindi li chiamano quindi c'è un po' c'è anche un ufficio stampa per cui ogni tanto diciamo il partito la trasmissione ha bisogno di qualcuno il partito cerca qualcuno da mandare poi ci sono quelli più bravi e quelli io sono molto poco brava in televisione quindi sono andata qualche volta e ti hanno detto no non mi hanno più detto niente però non mi ero neanche più invitato quindi ok non so secondo me ho giocato male le mie carte perdono quindi non sai quali sono le cose che vengono richieste no dipende ma no non lo so sinceramente no non lo so non so dire sicuramente che sia della linea del segretario questo sicuro cioè se io non sono proprio anche perché se vado in tv dovrò dire qualcosa dovrò concordare la linea con il segretario su alcuni temi perché il partito prima ti dice puoi dire questo no 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 però uno dice chiamo lui innanzitutto perché ha un ruolo teoricamente quindi chiamerò il responsabile della segreteria che si occupa di Tortellini e va lui e lì lui sta prattuto di Tortellini dopodiché se c'è in quel momento un Tortellini-gate un po' più spinoso magari chiama il segretario e gli dice guarda il segretario io vorrei dire questo e questo e questo magari concorda la linea immagino perché non mi chiamano però teoricamente dovrebbe funzionare stiamo facendo speculazioni però teoricamente dovrebbe funzionare così ok quindi c'è controllo alla fine è un controllo comunque c'è un ufficio stampa che chiama poi alla fine sono anche quelli più bravi quelli che alcune trasmissioni poi dipende molto cioè a me per esempio per un bel po' quando c'era il governo Conte 1 sono stata corteggiatissima e anche all'inizio del Conte 2 da una trasmissione televisiva di cui non farò il nome perché uno non me lo ricordo due non l'avrei fatto più bugie su bugie no ma io rimuovo così non faccio la gaffa quindi io rimuovo no però veramente non mi ricordo sulla rete televisiva che era una trasmissione che io diciamo non avevo mai guardato e quindi l'ho guardata e per lo standard che era quindi molto urlata molto lo scandalo il profugo che ha rubato era Mario Giordano perfetto e loro mi volevano perché potevo fare quella che era un po' contro i cinque un po' quella perché no sapevano che se loro andavano a me io non mi mettevo a dire ah sì però questi immigrati però io gli ho detto che io non davo queste cose qua cioè io non mi presto uno non lo sa sarei stata scoiata viva tipo dentro di spade cioè presa e poi e quindi tendenzialmente non mi va né in più avrei prestato il fianco a quel tipo di racconto della politica e dell'attualità che per me è il contrario della politica e quindi io non potevo accettare di fare parte di essere una comparsa in questa cosa quindi questo non ha aiutato sicuramente la mia carriera televisiva però dipende anche ci sono alcune persone che sono più brave cioè loro stanno lì e dicono sempre la stessa cosa urlando con questi attorno che gli urlano e loro io sbrocello impazzirei in un certo punto a parte non riuscirei a parlare però quindi è anche giusto che ci vada della gente un pochino più brava forse ok ad esempio del tuo della tua le dico la tua corrente è come se tu fossi il leader di una corrente in realtà magari sei un'orfiniana possiamo dire sì possiamo dire ma diciamo non lo diciamo left wing sì sì no si può dire tipo a urfini lo stesso non è che vada molto in televisione è una corrente che comunque non compare se nessuno di voi va in televisione non esistete diciamo da destra sì ma no sì diciamo ma anche perché appunto in questo momento non abbiamo molti ruoli in segreteria da nessuna parte quindi credo che orfinino invitino poi dopo sceglierà lui sceglie lui se andare o no insomma anche perché lui è stato per molto tempo presidente del partito democratico quindi insomma sì però non so veramente non so quale sia non so quale sia la dinamica perché ne sono sempre stata esclusa quindi non mi sono mai neanche posta quindi niente televisione vabbè no ma sì ma non per scelta cioè nel senso io se mi invito non vengo volentieri però però non Giordano beh vabbè no cioè nel senso non quelle robe lì perché secondo me uno dovrebbe cercare di disporre il proprio il proprio pensiero e io non sarei in grado di farlo probabilmente per un limite mio cioè se mi sento uno che che fa il filosofo che si mette a parlare di virus io del cervello perché non capisco perché lui stia lì quindi se lui e poi assertivo cioè io proprio non sono adatta no come no bisogna fare un attimo di palestra molto training autogeno esatto no ma esatto magari uno dopo un po' che lo fa come tutte le cose cioè si fa si imparati io non però peraltro io di Orfini ho sempre in testa l'immagine di lui che gioca con la Playstation non mi che è solo tu è rimasto una roba io penso Orfini e penso quella roba lì è stato un passo a Shaguna aveva giocato con la Playstation con Renzi si e l'ha vinto lui anche Renzi ha vinto Renzi tu sei contraria alle scissioni diciamo io non sono contraria alle scissioni sono contraria al fatto che diciamo sono a favore alle scissioni se sono motivate se sono è perché io non ho più la maggioranza quindi me ne vado cioè se non sei all'asilo no nel senso che quindi e quindi chi porta eh poi ah ha visto da quando non ci sono più io io nessuno parla di queste cose certo cioè te ne sei andato cioè poi io capisco è difficile quindi per carità ok quindi nel diciamo che siccome molte di queste scissioni in realtà vanno verso sinistra adesso non è il caso di Renzi probabilmente ma sì insomma un po' sì ma ci sono delle compagini politiche a sinistra che tu consideri troppo a sinistra per te perché tu alla fine cioè molte delle battaglie tu ad esempio matrimonio egalitario è una battaglia tua non del PD eh you solely no è di tutto il PD you solely tutto il PD anche se poi non pervenuto tutto il PD eh numeri identificativi nelle cose mia quello ci piace ci piace a me personalmente piace c'è una cosa che hanno in tutta Europa anche nel PD diciamo che non è no questo sì no no perché no e questo secondo me è un errore perché succede quello? non lo so ne credo che ci sia un non lo so me lo stanno chiedendo in molti perché mi hanno fatto un po' di intervista in questi giorni e io non so dare una risposta eh credo però che se uno si dice partito europeista deve esserlo non solo quando gli fa comodo ma sempre quindi noi dovremmo avere i codici identificativi sulla divisa dei poliziotti quando sono in una manifestazione sempre e è una cosa che è una cosa che è una cosa che tutelerebbe per primi le forze di polizia e poi le persone che vanno in manifestazione e soprattutto lo Stato e la credibilità che è lo Stato quindi io sinceramente se tu mi chiedi perché il PD non porta avanti questa battaglia la risposta che ti do è boh perché oltre che dirlo io che già sarebbe sufficiente ma lo dice anche la l'Europa il Consiglio d'Europa quindi anche l'Italia ha approvato una risoluzione che chiedeva questo e quindi non so perché non lo faccia ma ok ci sono delle pressioni che effettivamente avvengono ma sì c'è un po' paura in realtà perché poi in realtà i sindacati di polizia non è che siano tutti contrari sono a favore se ci sono vabbè ci sono quelli un po' che fanno ma ci sono quelli contrari ok è normale il lavoro della politica è capire perché uno è contrario è cercando di cambiare la propria opinione ma molti dei sindacati non è che sono aprioristicamente contrari sono a favore se tu gli metti delle regole di ingaggio chiare e molte chiedono la bodycam perfetto mettiamogli la bodycam e i codici alfanumerici e così avresti anche diciamo secondo me c'è più paura quasi di parlare di questa cosa che del ma noi abbiamo un problema sì abbiamo un problema perché noi abbiamo avuto Genova perché noi abbiamo avuto Cucchi noi abbiamo avuto Aldrovandi noi abbiamo avuto Giuga abbiamo avuto le Venezia nel carcere abbiamo avuto no 12 morti nelle rivolte dei carceri abbiamo avuto episodi di razzismo conclamato abbiamo avuto episodi di violenza nei confronti dei studenti abbiamo avuto episodi di connivenza in confronti allora non va bene non va bene sono tutti così i membri delle forze dell'ordine? assolutamente no esiste un modo per iniziare a dare un segnale? sì costa molto? no quindi non ci sono e la cosa che mi fa più imbestialire è che per farlo non è necessaria la legge la legge uno la presenta io la presento l'ho presentata anche la scorsa legislatura la presento perché è una cosa di civiltà ma basterebbe una circolare del ministero degli interni perché si tratta di un aggiornamento delle divise quindi come? si dice volere è potere se uno vuole quella cosa lì la fa il problema è che non la si vuole fare allora io non ho ancora capito ma perché è un problema mio sono ignorante perché non la si voglia fare me lo dovrebbero spiegare perché sinceramente credo che sarebbe un atto che darebbe grande diciamo di profondo rispetto nei confronti delle forze dell'ordine e nei confronti dei cittadini italiani e sinceramente mi dispiace però spero che pian pianino anche lì pian pianino passa la volta ci arriviamo pian pianino sono d'accordo devi puntare al ministero dell'interno non so se questo ciò ok no pian pianino con calma pian pianino mi vuoi male proprio no per carità non sarei adatta comunque vediamo comunque vediamo ti sei impegnata mai c'è il titolo minimo io sarei contentissimo adesso questa cosa la vendo alla vita poi stavo guardando mi sono dimenticato perché stavo chiedendo questa cosa salario tu parli spesso del salario minimo mi sa che non sono così convinto convincimi del salario minimo vendimelo perché la mia perplessità sul salario minimo stiamo saltando riparo in frasca io so tutto è perfetto no vabbè ho visto che è una battaglia che ogni tanto è combattuto a me lascia un po' perplesso perché noi abbiamo un sistema di contratti collettivi nazionali che quindi ti dicono una persona l'assumi devi pagarla tot non è che decidi tu quindi il salario minimo in questo senso mi sembra più una battaglia di bandiera allora io sono d'accordo con te nel senso che il nostro sistema è un sistema che è molto tutelante che esiste che è quello dei salari per la contrattazione nazionale il problema è che negli ultimi anni in particolare a partire dal 2008 i salari della contrattazione collettiva nazionale cioè quindi i contratti scusami nazionali sono usati in modo diciamo sempre minore e sono sempre di più le finte partite IVA o i contratti multiservizi o i contratti diciamo usati i part time sono sempre più usati delle metodologie che aggirano quella cosa lì allora il problema è se si aggirano costantemente ma con numeri di milioni e bisogna trovare una soluzione alternativa una soluzione alternativa per i contratti che non aderiscono al contratto nazionale può essere quella del salario minimo nel caso non dovesse andare bene bisogna comunque lavorare su questa linea perché noi non possiamo più fare finita e poi non fare niente perché soprattutto a livello generazionale ci sono intere generazioni che sono escluse da qualunque cosa perché non riescono con i soldi che hanno a pagarsi più che l'affitto questa cosa non va bene allora uno dei modi è questo dall'altra parte noi abbiamo un paese che è uno dei pochi paesi che ha anzi credo l'unico paese in Europa che ha diminuito i propri salari anche dei contratti nazionali in percentuale rispetto nei ultimi dieci anni rispetto agli altri paesi che hanno aumentato i propri salari nell'Unione Europea quindi esiste un problema molto serio per cui non credo che sia la panacea cioè da domani faccio il salario minimo no però anche adesso Orlando il ministro del lavoro sta iniziando a dire ok forse dovremmo iniziare a parlare del salario minimo anche noi perché c'è qualcosa che non va perché perché purtroppo non è più sufficiente quel sistema che era stato pensato negli anni 70 a tutela dei lavoratori e quindi visto che non è la Bibbia ma è un sistema perfettibile va aggiornato tutto qua insomma su questo per esempio credo che nel partito democratico ci siano molti spazi tant'è vero che il ministro del lavoro lo sta dicendo quindi anche lì pian pianino pian pianino un po' questa pian pianino pian pianino ok però nel frattempo passano nel senso le generazioni però pian pianino vabbè ho capito uno inizia adesso insomma no no nel senso ma io capisco perfettamente il discorso no è che purtroppo bisogna avere non solo l'idea ma bisogna avere anche il consenso una volta che tu riesci a creare attorno a quell'idea un consenso riesci anche a portarla a cambiare la vita delle persone perché su alcune battaglie io ho l'impressione che il consenso ci sia e non ci sia il coraggio prendi l'eutanasia no l'eutanasia tu è un'altra battaglia ormai te le cito tutte tutte quante sull'eutanasia io mi sono speso moltissimo quando c'è stato il referendum ovviamente che era l'unica cosa sulla quale potevo avere un po' di un po' di impatto ovviamente io preferirei una legge al referendum perché il referendum ovviamente può abrogare un pezzettino la legge è una legge però ovviamente non succedendo niente da anni io ho detto vabbè dai ragazzi facciamo questa cosa e io ho sempre sempre avuto l'impressione che sia proprio un discorso non solo della sinistra o del centro-sinistra ma una battaglia che coinvolge molto di più molte persone e che poi non c'è il coraggio politico nessuno si prende il coraggio cioè la briga di fare questa cosa qua no questo è vero diciamo noi allora la scorsa legislatura è stato fatto il testamento biologico con una fatica immensa ma io dico sempre se troviamo la mediazione nel PD è così difficile trovare la mediazione su questo il PD che quando la troviamo noi ci vengono a ruota tutti gli altri ed è vero cioè se ci bisogna avere anche i numeri ovviamente su questo tema è uno di quei temi un grande tabù un grande non detto però che esiste tra l'altro noi abbiamo una società sempre più anziana con persone che si ammalano sempre di più per fortuna tra virgolette nel senso che vuol dire che la loro età aumenta ma anche con patologie sempre più complesse bisognerebbe aggiornare la legislazione sì con l'eutanasia e con il suicidio assistito con l'accesso alle curie palliative per tutti non solo se abiti in Emilia Romagna ma anche se abiti in Calabria piuttosto che in Basilicata piuttosto che a Milano e diciamo è un settore che è un tema molto delicato sicuramente perché sono questioni etiche e perché è più facile dirlo quando abbiamo votato il testamento biologico e tu sei lì che proprio devi scrivere la norma ti trema molto la mano perché quello che stai facendo inciderà sulla vita di tantissime persone ma in modo molto molto grande quindi capisco che sia un tema molto delicato da trattare anche lì io credo che l'errore sia decidere da una parte di non trattarlo come per esempio fare a destra non si parla di questa roba quindi istruzionismo se ne deve parlare perché nel paese c'è questa necessità tanto è vero che c'è il referendum cioè se no e quindi per evitare di creare un buco dopodiché se noi non siamo in grado di parlarne la democrazia per fortuna ha dei sistemi alternativi e in politica non esiste il vuoto cioè se tu in politica hai un vuoto di rappresentanza su questo tema non è che non se ne parla se ne parla in un altro modo in questo caso con il referendum e quindi ci starà questo referendum speriamo domani ci saranno i verdetti della consulta della consulta della ammissibilità a quel punto il Parlamento sarà costretto a discuterne credo che sul suicidio assistito in realtà già su questo qualche anno fa era quasi impossibile parlarne invece si sia già arrivati a un buon punto di mediazione io l'avrei preferito in un altro modo il testo ma vabbè va bene insomma l'importante è che si arrivi a un punto che si faccia una legge sull'eutanasia purtroppo siamo ancora un pochino indietro ma noi siamo un paese profondamente cattolico anche se magari non c'è tutta questa gente che va messa ma la cultura e il credo è profondamente radicato quindi bisogna avere rispetto anche di quel pezzo lì e cercare di fare insomma come si dice libera chiesa e libero stato quindi cercare di tutelare e di rassicurare chi ha paura che si diventi una roba per cui come dicono un altro giorno in Parlamento tutti i giovani uccideranno i propri genitori ma ci sono cose ovviamente fuori cioè a quello ci arriviamo piano piano ma pian pianì piano piano pian pianì adesso hai scoperto il piano e insomma sì credo che ci si possa arrivare però si fa molta fatica eh molta fatica ma tu pensi che quando cioè se il referendum dovesse essere trovato costituzionalmente valido il PD farà campagna non lo so non credo che la Fasa mi ha detto no no perché su questo tema credo che non ci sia la non ci siano in questo momento le condizioni per esprimere un parere tra l'altro sarà molto difficile insomma ci sarà una bella discussione perché sono i 5 referendum sulla giustizia che sono abbastanza tostarelli anche per il PD e il referendum sulla depenalizzazione del possesso di cannabis anche lì wow cioè incredibile cioè incredibile che noi non siamo ancora riusciti a parlare di questa cosa e eutanasia e l'abolizione della caccia quindi io credo che forse possiamo trovare una posizione subito sull'abolizione della caccia e vabbè sono le cose facili diciamo prima le cose facili poi quelle difficili no sull'altro sarà boh sarà interessante vedere come si svilupperà il dibattito perché saranno cose che è una stagione di referendum che cambierà abbastanza credo insomma il panorama politico e anche i partiti politici italiani come è successo negli anni fine degli anni 70 inizio anni 80 pensi che questi referendum avranno un impatto sui partiti? eh per forza perché i partiti saranno costretti a prendere posizione su sta roba e se non la prendono starà a prendere posizione come è successo con il divorzio con i PC che a un certo punto si spostò un po' o torto collo come dicono quelli che hanno studiato o diciamo quando ci sono questi referendum di questi temi c'è sempre un momento di perché anche all'interno della Lega ci sono posizioni differenti su questi temi perché non parlare di un tema non fa sì che quel tema non esista fa sì solo che tu non ne stia parlando e quindi a un certo punto quando improvvisamente sei costretta a parlarne hai tre mesi per farlo sarà un momento molto interessante beh ci possono essere posizioni differenti però ovviamente la linea del partito sarà una ad esempio la Lega la Fattibilitaria la Fattibilitaria saranno cannabis assolutamente no la droga si muore le esplosioni ok proprio in quest'ordine in questo modo però sul 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 sui cibi assistito sull'eutanasia lì cioè non lo so non so se si arriverà a libertà di coscienza o non lo so per esempio sul suicidi assistito che abbiamo in aula Italia Viva ha già detto che darà libertà di coscienza quindi ci sono già dei movimenti la Lega anche Salvini aveva detto anche se poi Salvini insomma diciamo a volte dice più cose di senso opposto però aveva detto che su questi temi non ci può essere una linea del partito ha parlato anche di suicidio di Stato infatti c'è stato un momento in cui aveva detto non ci possono quindi vediamo però è sintomo che dentro insomma hanno delle posizioni differenti così come noi abbiamo delle posizioni differenti poi io passo per essere una super ma non sono così cioè io penso semplicemente però che che se ne debba discutere perché io molto spesso appunto anche quando abbiamo fatto le DA del testamento biologico avevo delle posizioni che poi discutendo con i miei colleghi più moderati conservatori ho capito la loro posizione ho mi sono sentita crescere insomma ho imparato molto e ho anche cambiato alcune mie posizioni ma se non si discute però non l'avrei mai fatto e così loro eh quindi è necessario farlo ok è che va bene ti ripeto sempre la stessa cosa è che spesso magari dall'esterno questa cosa non è particolarmente apprezzata nel senso che poi tu dici vabbè ci sono le discussioni interne eh lo so questo qua è uno dei problemi non far perché le persone non si sentono partecipi perché sembra sempre che a prescindere tanto non cambia niente è vero è uno dei problemi bisogna che uno venga a darci una mano perché sennò ok chi deve arrivare a dare qualcuno tutti voi ah dai venite non solo le pd è di qualunque cosa però tanto il pd comunque brutti non ne perde cioè quella roba lì vabbè devo anche la famosa strategia dell'opposso ogni volta devo citarla questa cosa è proprio una roba mia che per l'altro è di soffoli però è una soffattamia cioè il pd che si finge morto se Jurassic Park ci ha insegnato qualcosa è che quando ci sono dei predatori molto violenti tu devi stare immobile se loro non ti vedono esatto però è un mondo in cui i predatori più grandi sono sempre gli altri e il pd è sempre quello e quindi ma beh pian pianino pian pianino poi siamo sempre siamo grandi diventando prodi sostanzialmente con calma chi sta ricordando insomma non è un partito che a parte una volta ha avuto più del 40% ma in questo paese è difficile che i partiti abbiano più del 25% quindi ci sta è anche giusto così ok è giusto così? insomma d'altronde è così non ci sono dei partiti in questo momento che abbiano il 50% ci sono 5 partiti che hanno scusa 4 partiti che hanno tutti il 20% più o meno c'è la Lega Fratelli d'Italia il pd Movimento 5 Stelle e Forza Italia sotto e più o meno è questo qua il paese è fatto così è diviso in parti più o meno uguali in questo momento poi ogni tanto c'è un pezzo che prevale sull'altro però più o meno è così ed è anche giusto che sia così l'importante è che diciamo questi pezzi poi dopo riescano a discutere o che riescano a a far politica insomma quindi a portare le proprie opinioni il problema è quando si smette di fare quella roba lì ma ci sta avere per forza il 50% non è detto che sia una cosa positiva perché per averlo vuol dire che tu hai rinunciato delle cose per prenderne delle altre che non è detto che sia una cosa positiva di per sé ok l'ultimo Mirto prima che ti faccio tre domande al volo grazie però per averlo chiesto no no vabbè ci teniamo di essere gentile ci ho provato le sardine voglio farti una domanda sulle sardine ok opinioni ma tipo il pesce oppure le pesce no no beh certo scherzo allora sono state allora in Emilia Romagna sono state una cosa determinante per noi per rivincere le elezioni regionali determinante perché la campagna elettorale era iniziata Maluccio gennaio 2019 no 2020 madonna ti ricordi quando quando eravamo giovani eravamo giovani quindi sono state molto importanti credo che abbiano dato un grande movimento anche a alcune elezioni di politica anche al partito democratico ma anche ad altri dopo però purtroppo non sono riuscite a catalizzare quella cosa in qualcosa di più concreto probabilmente perché erano nate per essere una cosa molto di popolo ma molto di pancia molto estemporanea non so come dire ed era il loro bello anche all'inizio forse l'errore è stato cercare di farle diventare qualcosa che non erano perché quelle erano piazze che rispondevano a Salvini che veniva in Emilia Romagna e che diceva che non erano tutti quelli Bibiano e che le cooperative eccetera eccetera questa era una reazione tra l'altro generazionale perché moltissimi erano dai 35 25 35 anni e erano tutte persone che non si sentivano rappresentate né partecipavano magari alle cose del PD però non accettavano che la destra venisse a fare queste cose in Emilia Romagna piuttosto che quindi sono state importantissime credo che però poi dopo non siano riuscite a come direbbe Gramsci la loro forza propulsiva si è interrotta però non credo neanche che forse non avevano forse era una roba che era nata lì ed era giusto che fosse così ma magari non è invece stato il contrario non è stato il partito che non è stato in grado di incanare quella forza perché inizialmente non erano così oddio certamente non erano una forza di destra però sembravano più una forza di lamentela giovanile quasi no? sì sì erano sicuramente una reazione una reazione proprio su Bologna e Modena che sono state le prime piazze e sono state proprio di reazione antipopulismo diciamo basta esatto perché c'era il governo Fonte 1 ed era un momento storico molto diverso e il partito ha provato ad ascoltarla secondo me è un po' maluccio nel senso che in quel momento lì si è provato allora ci sono delle tattiche la vecchia gloria che esce sempre fuori e la giovane promessa cioè quello che prendi è carino è giovane non ha idea di come funziona il partito e tu lo mandi così fa il frontman perfetto tu fai la figura di quello che ascolti i giovani e poi quando bisogna decidere tu lo prendi e arriva la vecchia gloria ok il lì c'è starne in mezzo e cercare di non fare la fine dentro la vecchia gloria della giovane promessa cioè di starne in mezzo quello che è successo è stato in parte anche quello cioè è stato cercare di non solo mettere un cappello perché a un certo punto loro dovevano mettere il cappello perché era tutto bello ma poi a un certo punto bisognava votare quindi è vero non vogliamo salvi dopodiché c'era Bonacini oppure c'era la Bergonzoni non è che c'erano altre opzioni quindi loro da una parte sono stati costretti tra virgolette a prendere una posizione ed è stato un bene perché a un certo punto la democrazia funziona anche a un certo punto di prendere una posizione forse sì e sono stati un pochino presi e così insomma mangiati anche da questa cosa però insomma cioè comunque non è un'opinione positiva diciamo ma sì ma in generale sì penso che sia stato un grande momento forse non è stato diciamo del tutto ma poi dopo è partita anche la pandemia quindi è stato tutto molto insomma in realtà è stato tipo due o tre mesi poi c'era Santori che andava ovunque quindi sembrava che fossero passati anni ma lui è stato tutto in pochissimo tempo poi secondo me sono stati fondamentali per la vittoria nostra e della coalizione di centrosinistra non sono in Emilia Romagna ma in altre regioni però poi dopo sì si sono un pochino persi ma forse ripeto era anche abbastanza nelle cose quindi dici che alla fine il PD come partito da loro non ha imparato tantissimo non ha non lo so ma forse no forse no secondo me c'è un problema proprio di capacità di ascolto di un pezzo di paese generazionale soprattutto e non ce la si fa che è un pezzo anche che ha votato i 5 Stelle per esempio anche per protesta o perché si sentivano rappresentati giustamente anche perché sono molto giovani quelli dei 5 Stelle posto che diciamo essere giovane non è una condizione sufficiente né un merito di per sé non più di avere i capelli biondi diciamo adesso che non siamo più giovani è una condizione transitoria è fichissimo però non vuol dire che uno è bravo perché è giovane come non vuol dire che uno è bravo perché è vecchio sì diciamo questa cosa ce l'abbiamo nel senso che è un problema noi diciamo sempre i giovani giovani poi però basta che poi dopo non cerchino di venire sicuramente c'è e forse sì potevamo imparare di più sicuramente sì ma tu sei una giovane promessa o una vecchia gloria io ormai sono quasi vecchia gloria perché c'è una certa io noi tentammo di fare il grande balzo in diagonale che è quella cosa in mezzo però cerco di non fare la fila di nessuna delle due ecco ma tu al prossimo giro ci rientri in Parlamento dopo tutte queste bellissime cose che ho detto sul Partito Democratico come fanno a dirmi di no tutte le persone qui ti votano però hanno la prima fila quindi sicuramente è che sono tutti nudi diciamo per sempre per il podcast per prendere frutta no no non si sa adesso non sappiamo neanche quando che legge elettorale ci sarà quali saranno i collegi tu cosa vorresti io sono una fervente proporzionalista da sempre no anche io volevo un contrasto su questo ce l'avrai con me però soglia di sbarramento o quanto 5 basta così cosa ti aspetti per il futuro nel PD perché sarà un futuro nel PD hai detto che comunque non si esce si sta dentro si sta dentro finché uno si sta bene sennò poi dopo a un certo punto non è obbligatorio giubbita pini pronta no ma nel senso che non credo che nessun medico consigli stare nel PD quindi non è obbligatorio se uno si sta bene si sta se no a un certo punto però io cerco di starci bene e io spero che ci saranno è quello che diceva Bersani ai tempi si diciamo un po' diverso dai però si tutti bene per carità spero che ci possa essere la possibilità di sfruttarla al meglio spero che ci possa essere la possibilità di discutere su alcune cose di essere un partito un pochino meno di centro un pochino più di sinistra per farlo a mio parere è necessario esserci e non aspettare che venga qualcuno a salvarci perché non verrà nessuno a salvarci e ci dobbiamo salvare da soli tra virgolette nel senso che è una cosa che dobbiamo fare noi quello che posso fare io nel mio piccolo è cercare di portare avanti certe battaglie e cercare di convincere più persone possibili a darmi una mano in quelle battaglie e farlo con dignità e onore come chiede la Costituzione poi dopo se finirà non vuol dire se non dovessi essere candidata non è che finisce il mondo si continua a fare politica e vediamo se invece dovessi essere nuova candidata vediamo insomma diciamo non è non può essere quello il metro di giudizio perché se no è un lavoro splendido ma è molto precario quindi non puoi pensare che quello sia tutto e non ti viene da pensare ogni tanto che non sia così precario perché comunque dieci anni sono tanti io non riesco a immaginarmi fuori dal mio ruolo in questo momento dopo dieci anni che faccio quello e tanto per te diciamo personalmente come persona sì ti cambiano la vita e molti prendono anche la sindrome un po' di Napoleone si sentono un po' sto cazzo per dire capita però è molto bello è molto pesante è veramente un onore quindi certo che dopo è difficile però insomma d'altronde non è che è una cosa che dipende da te quindi tu devi imparare ad accettare questa cosa non è una cosa che dipende da te dipende dagli elettori dipende dal tuo partito dipende anche da te che quello che fai non fai però la tua parte è minima ed è giusto che sia così cioè tu non puoi pensare che un partito esista solo perché c'è qualcuno perché sennò sono quei partiti che poi muoiono poi a un certo punto quella persona smette di far politica o esce dal partito il partito muore i partiti devono esistere a prescindere da te ci devono essere prima e ci devono essere dopo questo è più vero per partiti come il PD a meno ma sì dovrebbe essere una cosa esatto è una cosa però che non va benissimo nel senso che invece dovrebbero essere dei partiti che ci sono a prescindere dal leader che c'è ovviamente hanno dei momenti alti e bassi a seconda del leader o del gruppo ma non può essere che se non ci sono io non c'è più non c'è più perché è una cosa malata non funziona così e quindi diciamo l'importante è cercare di lasciare qualcosa che quando non ci sei più tu che continui a esserci ma non fai più quel lavoro lì ci sia qualcun altro che però insomma raccoglie qualcosa che hai seminato già sarebbe una roba fica quando pensi alla possibilità di non essere più in Parlamento cosa ti immagini? cosa vorresti? vediamo insomma ci sono qualcosa ci inventiamo insomma è come me che mi immagino tipo siamo un po' abituati medico di emergency non lo so io ho questa campesia a 40 anni molto felice ho una insomma sono parte c'è stato un certo punto della della nostra recente vita parlamentare in cui un gruppo di noi ha fatto una fideiussione bancaria per pagare la nave di Mediterranea quindi a un certo punto Mediterranea non riusciva aveva bisogno di qualcuno che garantisse quindi c'è un gruppo di parlamentari che a un certo punto ha preso e ha fatto questo non posso dare i nomi perché alcuni non hanno potuto dire le proprie mogli per evitare di essere cacciati di casa quindi hanno fatto la fideiussione di nascosto no di nascosto tra virgolette insomma però quindi quello per esempio è un mondo della dell'NG della cooperazione è un mondo mi piacerebbe dare una mano lì ci sono tante cose che ho imparato che potrebbero essere utili e se no io posso anche aprirmi un bel negozio un bel negozio Tiger a Modena che non c'è c'è a Reggio Miglia c'è a Bologna non c'è a Modena ma questa roba mi fa impattire ha proprio cambiato questa esperienza di essere salita sulle rossi all'alto sì no mi è molto cambiato mi ha cambiato quello mi ha cambiato ricevere le telefonate della gente che sta affogando in mezzo al mare ti chiedono un porto e non ti rispondono al telefono quelli che dovrebbero andare a salvarlo mi ha cambiato vedere le persone sì ti cambia non so se in meglio in peggio però sicuramente ti cambia e non si può essere indifferenti quindi per me sempre visto che siamo ospiti di un illustre sardo si cita l'altro sardo io odio chi non parteggia quindi a un certo punto nella nostra vita stesso livello stiamo citando un altro sardo lo so più o meno io conosco pochi pochi sardi ma buoni e quindi diciamo no credo che sia una cosa importante sì mi ha cambiato la vita se ti devo dire la verità mi ha cambiato la vita e spero che possa esserti molto che ti inganno prima che io mi alzi chiami il tuo nome e mandi tutti a letto ultima domanda se si ipotizzi di non essere la Giuditta Pini parlamentare prossimo governo cosa succede perché secondo me questa cosa la faccio con tutti e scommetto con tutti avremo la prima presidente del consiglio la meloni succede beh se gli italiani la votano beh vabbè ho capito beh sì se prendono i bai se c'è con questa allora metterlo così col taglio dei parlamentari questa legge elettorale è molto probabile che succeda vero sì anche nonostante lei abbia gli stessi voti potenzialmente del PD questo per farti capire perché è importante il proporzionale però può succedere dico di più è sicuramente più probabile poi spero di essere smentita dai fatti che ci sia una presidente del consiglio don che viene dal centro-destra che una presidente del consiglio don che viene dal centro-sinistra ok vabbè ok in generale non solo ci possono essere altre figure ci hanno parecchi nomi mentre noi pochini ok esatto quindi è un problema nostro eh e no quindi quindi succede insomma quello succede può succedere può succedere questo può succedere l'importante insomma è fare in modo per quello che mi riguarda che non succeda però insomma fare tutto il possibile ciò che umanamente è possibile ecco dai governo Meloni applauso al governo Meloni camera applauso e agilità fini grazie mille grazie mille grazie mille grazie sono completamente senza voce grazie spero abbiate imparato qualcosa per me è stato illuminante terrificante volevo chiudere in una notte allegra quindi spero che insomma abbia salvato gli animi e niente grazie per essere stati qui buon San Valentino grazie a Gimme5 e a Tridon che finanziano tutto questo grazie a voi per essere qua per essere stati qua buonanotte e alla prossima mi raccomando grazie buonanotte grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti